Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. per questo. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. la domani. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. la presa. e a tutti. e a tutti. a tutti. e 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 a tutti. e... e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. vedete. e... e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 ... e... 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 ... e... 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 ... e... ... ... ... ... ... e... ... 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 ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ...... 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 non chiedo scusa era da parecchio che aveva la mano alzata volevo conoscere la storia di Adam Erebo secondo Pignino e poi qualcosa su di risposta allora pregamente la Bibbia ci dice che rimaniamo alla Dama e Deva la Bibbia ci dice che dopo aver piantato questo Gan Eden nel quale hanno messo dentro e lì la Bibbia è chiara ogni albero che produce frutti buoni da mangiare cioè la terra era già piena di vegetali lì ci mettono la roba che produce cibo l'abbiamo appena detto poi dice la Bibbia che gli Elohim presero la Dama e lo posero in Gan Eden quindi lo prendono da un'altra parte perché l'hanno fatto da un'altra parte quindi Dio non ha creato l'uomo nel paradiso terrestre lo dice la Bibbia l'hanno preso e l'hanno messo lì solo i maschi perché doveva lavorare quindi custodire e lavorare poi la Bibbia dice che Dio con un certo stupore si accorge che per la Dama la compagnia degli animali non era sufficiente io nei fumetti nei quali mi prendo le stesse libertà che si prendono i teologi cioè dico delle cose senza doverle dimostrare come fanno loro quindi siamo uguali solo Dio dichiaro che nei fumetti mi ispiro liberamente invece loro dicono anche la verità magari rappresento un po' di due le scene alle quali forse dovevano assistere gli Elohim tra i maschietti e gli animali che allevavano allora decidono di fargli la femmina e per fare la femmina mettono in piedi appunto mettono in atto quel protocollo di cui dicevo prima inducono nella Dama un sonno profondissimo prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva cioè non la costora un da proprio in ebraico è così un da parte laterale ricurva chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina che non a caso il maschio si chiama Ish la femmina viene chiamata semplicemente con l'aggiunta della tesinenza femminile Isha sarebbe come se noi dicessimo maschia perché? perché fatta con lo stesso patrimonio genetico del maschio esattamente saranno i due nomosome X ovviamente esattamente lo stesso patrimonio genetico e quindi la storia degli adamiti che non sono i progenitori dell'umanità ma sono i capostipiti di una razza specifica che loro si sono fatti per loro mentre l'umanità i sapiens l'hanno fatto da un'altra parte quindi questi erano geneticamente particolarmente puri tant'è che appunto li fabbricavano per clonazione proprio per averli geneticamente puri e dovevano anche avere una grossa componente di patrimonio genetico loro perché vivevano molto a lungo questi qui fino a quando loro decidono capitolo 6 della Genesi di interrompere l'apporto del loro sperma sostanza e quindi la vita di questi qui comincia a scendere perché cessa l'apporto di patrimonio genetico da parte degli eroini quindi la storia sintetica di Adamo e Deo più sintetica di così non posso essere è questa qui poi Eva viene fra virgolette tentata da un ahash cioè da questo serpente e la Bibbia dice che lei mangia il frutto non la mela la mela non c'è nella Bibbia mangiare il frutto libro dei proverbi significa compiere l'atto sessuale quindi lei compie l'atto sessuale e lo compie con quello lì cioè un Elohim rivale dei comandanti del pianeta dopo dopo compie l'atto sessuale con Adamo cioè insegna ma lei il primo l'ha fatto con un altro infatti Adamo ha cominciato a dire ma porca Eva perché quelli lì siccome erano prodotti per creazione non dovevano riprodursi non c'era la necessità perché dovevano rimanere numericamente cioè avevano fatto quelli che gli servivano punto quindi c'è la discendenza caimita e la discendenza adamita pura cioè quella che poi deriva dall'unione appunto tra Adamo e Eva mentre i caimiti sono figli di quelli lì in sostanza i primi due sì esattamente quindi magari Caino era pure biondino un po' fenotipo albino sempre rappresentato come brutto e cattivo forse era forse più bello dell'altro perché era figlio diretto insomma di uno di quelli là probabilmente non lo so dieci comandamenti dieci comandamenti qui dobbiamo riconoscere alla Chiesa la capacità di avere elaborato un sistema etico valido per l'umanità nonostante ciò che c'è scritto nei dieci comandamenti che non sono un sistema etico ma sono un regolamento per mantenere l'ordine in un campo di addestramento paramilitario tant'è che valgono solo lì voi quando leggerete la Bibbia se avete voglia fate il conto di tutti gli stermini che sono stati ordinati andate e uccideteli tutti a partire dalle donne e dai bambini in dieci comandamenti c'è scritto non uccidere c'è qualcosa che non quadra quadra tutto in dieci comandamenti non fate queste cose tra di voi non desiderare la donna d'altri altri in ebraico non è altri prossimo come intendiamo noi ma il termine preciso è il vicino tuo con cui hai il rapporto continuo quindi siccome le femmine erano di proprietà del maschio se tu vedi passare una femmina non è che te la prendi perché quella femmina lì è di quel maschio magari della tenda vicino alla tua e se tu te la prendi dopo due ore quello arriva e ti sgonza e qui nel campo militare non ce lo possiamo permettere quindi tu la femmina del tuo vicino non la tocchi l'animale del tuo vicino non lo tocchi leggete un po' che cosa bisognava fare delle femmine degli altri leggetelo non ve lo dico andate a leggerlo e capirete che i comandamenti che non sono dieci sono 613 erano regolamenti per il campo di avvestramento paramilitario tra cui c'era anche una norma che insegnava loro come dovevano sporcare dicevano tornare avanti avrete un piolo nel vostro equipaggiamento un piolo nel vostro equipaggiamento per i vostri bisogni andate fuori dall'accampamento scavate fate poi ricoprite perché dice Yahweh io quando passo tra le vostre tende io non voglio vedere le vostre indecenze cioè se era stufato di calpestare leggetelo eh leggetelo se era stufato di calpestare gli ha insegnato come sporcare andate fuori onora il padre e la madre sapete cosa c'è scritto nei commenti talmudici non è ama il padre e la madre onora cioè occupati di e c'è scritto il tuo padre e tua madre sono un problema tuo te ne devi occupare tu a costo di indebitarti cioè i vecchi non devono gravare sulla comodità sono cavoli tuoi questo è onora il padre e la madre non ama il padre e la madre il rabbino Dovid Bendori dice giustamente il comandamento non uccidere che viene tradotto così in una traduzione sbagliata perché significa lì invece c'è non ammazzatevi tra di voi e dice sulla base di questa traduzione sbagliata cristiani ed ebrei sono caricati di un senso di colpa privo di giustificazione perché uccidere si può benissimo per esempio in guerra si può uccidere ma in assoluta tranquillità senza avere sensi di colpa perché quel comandamento lì non è non uccidere è non ammazzatevi tra di voi ah poi dice anche io sono il tuo Elohim non avrai altri Elohim all'infuori di me non avrai non esistono non solo anche lì commenti dal Mood sapete cosa c'è scritto non avrai altri Elohim all'infuori di me perché gli altri Elohim non danno alcun vantaggio rispetto a me oppure altro commento non avrai altri Elohim fino a che io ci sono quando io non ci sono più andate con chi volete c'è una cosa che io seguo da un paio d'anni sui tempi che conosco bene c'è una cosa però che mi viene cioè mi manca come si dice lo so lo so però di quello che lei scrive non riesco a capire se questi a un certo punto non ci sono più oppure come dice lei qualche volta dice che rimangono forse e sono nascosti oppure ci governano ancora attualmente non non potrei no una cosa che secondo me ognuno c'aveva il suo penso da governare come queste grandi invasioni da parte dei romani da parte degli assili prima eccetera eccetera hanno permesso oppure forse l'unica spiegazione che mi faccio è che loro erano a capo di queste se sono colonizzatori governatori siccome noi siamo uguali a loro e noi siamo uguali a noi si comportano come normali colonizzatori governatori e uno cerca di ampliare la sua vita di potere anche adesso si fa così no? anche adesso ufficialmente la terra sarebbe divisa tra le varie nazioni ma c'è chi dice io vado a prendere il pezzo là perché mi interessa per vari motivi però le questioni romaniche eccetera non sono condite da questi almeno a livello storico di questi strumenti intanto ci sono intanto ci sono poi sono state ridotte al minimo e vabbè bisogna introdurre a Rodot eccetera quando Rodot nelle sue storie addirittura giustifica e dice quasi come un messaggio ai lettori e dice quasi nel libro secondo dice state tranquilli perché io ho delle cose relative a quelli là cioè ai teoi non parlo a meno che non sia strettissimamente necessario cioè è un po' come se nella storiografia ufficiale di certi temi non si potesse parlare o non si dovesse parlare dice Rodot io di quelli là a meno che non sia strettissimamente necessario non parlo penso che sia finito non lo so sì questo punto sì mamma mia c'erano più laboratori visto che ci sono più ragazzi direi di sì direi di sì anche perché pian piano ci racconteranno perché i gialli non è che derivano per evoluzione darwiniana dai neri no è che stavano lì molto prima di noi come? è che stanno lì da molto prima di noi esattamente cioè vari esperimenti con quelli che trovavano sul posto e nella mitologia greca è pieno di esperimenti riusciti male perché perché allora il genetista che è a Campolino lo sperimenta tutto quello che funziona lo tiene quello che non funziona lo elimina scusate però questo è tutto non lo so io eh no ma lo so però non voglio fare torto a nessuno quindi faccio torto a tutti chiudiamo perché altrimenti dopo mangiare non so lascio la parola al dottor Pinozzi così sulle nuove tematiche ben intanto grazie a tutti dunque dovere affrontare un argomento come quello che adesso andiamo a trattare diciamo che vede almeno che quello che mi riguarda nel tempo cambiare le cose cioè una volta chi si accostava a queste cose era semplicemente o curioso o scettico e desideroso quindi un po' di capire se c'era qualche cosa da dire di serio o meno oggi c'è una crescente consapevolezza nella gente per queste tematiche ma soprattutto la gente è estremamente documentata non viene quindi a manifestazioni di questo genere tanto così per venirci o per partecipare ma semplicemente perché ha già le sue conoscenze le sue idee e vuole saperne di più quindi cercheremo oggi per quanto possibile di fare una carrellata abbastanza ampia sul tema che non vi tevi ma che nello stesso tempo permetta di dire certe cose allora intanto diciamo subito una cosa UFO vabbè ormai sono quasi sette decenni che se ne parla però al di là di qualunque discorso che possa essere fatto al riguardo basta dire che il fenomeno esiste esiste persiste quindi va da sé che è fuori discussione che la gente continua a vedere qualche cosa e che cosa vede perché non basta citare Einstein che diceva l'UFO la gente ha sicuramente visto qualcosa la gente vede e continua a vedere qualche cosa che potremmo sintetizzare in questa immagine molto semplicemente cioè sono oggetti di forme dimensioni e funzioni varie che potete vedere qui in quelle che sono diciamo le tipologie più ricorrenti andiamo avanti con la successiva perché diciamo io vi faccio vedere delle cose ma naturalmente porto avanti il discorso se quella che avete visto prima è una immagine diciamo attuale di sintesi ma se voi vedete documenti più vecchi come questo negli anni 50 vedrete che già allora gli americani distribuivano le tipologie che poi corrispondono sostanzialmente alle precedenti già allora addirittura troviamo qui persino la tipologia a triangolo che è molto più recente no? quindi come vedete nulla di nuovo sotto il sole andiamo avanti e va detta subito una cosa inizialmente quando il problema si è posto negli Stati Uniti dal 1947 in poi cioè da quando hanno iniziato a parlare nei giornali inizialmente si parlava di vischi volanti o piatti volanti flying saucers no? e poi successivamente la cosa interessò fatalmente l'aeronautica militare americana perché si temeva che fossero veicoli ussi di nuova concezione e allora cosa avvenne? avvenne che l'aeronautica militare americana varò un progetto un progetto un progetto libro azzurro che è andato avanti per quasi 23 anni che mirava praticamente a documentare il fenomeno ad analizzarlo per quanto possibile con inchieste fatte dall'aeronautica militare e addirittura arrivammo persino a montare su dei caccia americani delle mitragliatrici fotografiche in grado di riprendere in volo questi oggetti questa è una foto che mostra un saber ripreso dal gemello erano in coppia che sono dietro praticamente a due di questi oggetti ed è una foto degli anni 50 la cosa interessante è che comunque all'epoca l'ordine era chiaramente shoot them down cioè abbatteteli tirateli giù dato ai piloti successivamente le cose cambiarono andiamo avanti e diciamo saltò fuori la direttiva intercept don't shoot cioè intercettateli senza sparare perché avvengero un paio di casi in cui i piloti persero la vita mentre erano coinvolti in seguimenti per quello che riguardava gli UFO in realtà nessun UFO ha mai apparentemente tirato giù niente semplicemente è chiaro che se un pilota insegue uno di questi oggetti e diciamo con aerei non in grado di farlo sale a quote eccessive va a finire come è successo per esempio nel 48 a Capitano Mantel va in amossia poi si sente male perde il controllo dei comandi e cade qui poi vedete una tipica immagine di UFO in formazione quante volte sono stati visti questi qui siamo negli Stati Uniti andiamo avanti e un'altra cosa che vale la pena di dire è che il termine oggetto volante non identificato è quanto di più sbagliato si possa concepire perché gli UFO non volano non volano affatto o almeno non volano nel senso che noi diamo al concetto di volo cosa vola? vola un corpo che ha una portanza e che quindi diciamo usa in pratica l'atmosfera per muoversi sfruttando le leggi dell'aerodinamica questo è il volo se viceversa come fanno gli UFO ci si sposta nell'atmosfera in virtù di altre cose e cioè in virtù per esempio di un effetto antigravitativo perché è questo quello che è la base del movimento degli UFO allora la cosa è diversa in realtà gli UFO non volano tanto è vero che gli UFO non soltanto sono stati visti nella nostra atmosfera in tutte le salse possibili non soltanto sono stati avvistati in numerico di volte dagli astronauti russi e americani ma possono tranquillamente anche ammarare effettuare degli splashdown immergersi muoversi invariabilmente nelle nostre acque degli oceani e dei mari e addirittura decollare da questi e involarsi verso l'alto e questo è un tipico unidentified submerge doge cioè un oggetto sommerso identificato che non è altro che diciamo l'azione degli UFO nell'idrosfera andiamo avanti e testi effettivamente validi che hanno già siamo qui negli anni 90 detto tutto quello che si doveva dire in positivo sul tema provando la realtà oggettiva e tecnologica del problema sono per esempio questo il rapporto star rock andiamo avanti ma diciamo ultimamente è successo di peggio o di meglio se volete alcuni anni fa alcuni paesi hanno fatto outing cioè hanno cominciato a dire che il fenomeno è serio reale incontestabilmente oggettivo e vediamo per esempio la Francia che nel 1977 ha creato verso il centro spaziale di Tolosa una sua organizzazione privata civile governativa scientifica per lo studio del fenomeno che addirittura ha messo vedete 1600 avvistamenti online dicendo questo è il rapporto in 30 anni che il 28% di questa casistica resta inspiegabile andiamo avanti l'Inghilterra ha fatto lo stesso la RAF 4 anni fa 5 anni fa ha messo online anche lei i suoi dati soltanto che per avervi li dovete scaricare a pagamento è l'unica differenza si vede che c'è qualche scozzese dietro andiamo avanti e chi non ricorda il fuorionda del presidente Medvedev che nel 2012 se ne è tranquillamente uscito dopo aver effettuato un'intervista alla televisione di stato con la intervistatrice che fuori onda gli ha chiesto ma presidente ma questa storia degli ufo e degli alieni come la mettiamo e lui ha detto ma che vuole vedi quando si arriva alla mia posizione ti danno la valigetta dei codici operari e poi anche un copioso dossier sul tema degli ufo e degli alieni perché questa gente è qui solo che come si fa allora questa storia è venuta fuori in tutto il mondo perché apparentemente Medvedev non avrebbe saputo che in realtà il fuorionda non era un fuorionda del tutto perché c'era chi lo registrava però il fatto è che comunque questa cosa è avvenuta andiamo avanti ecco e qui vedete per la cronaca una cosa molto semplice che è sta roba con queste cose nere molto semplice in America che viene indicata come sede della democrazia al più alto livello e che certamente a livello degli Stati Uniti ha la costituzione più avanzata forse che è possibile concepire beh in America esiste per esempio il Freedom of Information Act la legge sulla libertà di informazione che consente al privato cittadino che sa esistere un documento di richiederlo al governo federale di richiederlo il rilascio al semplice costo di fotocopia e il governo glielo deve dare ma naturalmente può anche censurarlo in tutto o in parte ecco sappiate che esistono 20.000 e passa fogli attinenti a rapporti ufologici tutti di estrazione dell'intelligence CIA NSA FBI che parlano di UFO in moltissimi casi la censura è minima in altri come in questo caso è al 90% quindi capite che se gli etni di intelligence continuano a operare questo tipo di azione nei confronti di documenti del genere evidentemente non può non esserci sotto qualcosa di molto importante andiamo avanti per l'Italia questo è il consul Alberto Perbo che negli anni 50 è stato il pioniere della ricerca ufologica in Italia lui era un diplomatico andiamo avanti e diciamo costituì nel 1960 scusate nel 1955 il primo centro che si occupò del tema poi cosa successe nel 63 dopo aver scritto tre libri realizzò un testo molto importante ma contestualmente il governo italiano lo mandò a fare il consul d'Italia per l'orizzonte in Brasile per cui praticamente lui lasciò l'Italia e il suo piccolo centro ma anche agguerito e beh in pratica si sbandò e che cosa avvenne? avvenne che fra il 64 e il 65 la stampa italiana cominciò a linciare il tema del dufo letteralmente chi si occupava di questo tema era una manica di pazzi eccetera 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 allora chi era seriamente occupato chi si era seriamente occupato del tema disse ma non si può andare avanti così che si fa? e allora 50 anni fa siamo nel 65 in un teatro di Torino fu deciso di gettare le basi di una nuova associazione importante che dicesse la sua che si chiamò all'epoca centro unico nazionale per lo studio dei fenomeni ritenuti di natura extraterrestre perché doveva in realtà riunire gli interessati non avvenne questo ne scatolì un nuovo centro una nuova realtà mentre quel poco di vecchio che c'era con la sola in giro di uno o due anni e quindi andiamo avanti qui vedete addirittura che nel 67 nel printennale della prima segnalazione di UFO fatta in America noi in Italia facevamo il primo congresso italiano di ufologia a Riccione che fu un enorme successo con oltre 60 articoli di stampa tutti favorevoli a questa nuova associazione andiamo avanti e quell'anno addirittura ci siamo trovati proiettati al congresso mondiale che veniva fatto a novembre a Mainz Magonza in Germania dove c'era addirittura Herman Hobert il maestro di Von Braun uno dei paesi dell'automatica e la cosa interessante è che lì noi ci troviamo quello vabbè sono io molto più giovane che parlo al congresso ci troviamo addirittura una inviata dell'aeronautica militare americana che viaggiava con un passaporto diplomatico e che stava realizzando un importante testo che poi fece su tutta la bibliografia mondiale attinente all'UFO e che quindi ci fece un quarto grado per avere tutte le informazioni dall'Italia che poteva avere si chiamava l'Inca Top andiamo avanti poi nel 78 avviene un salto di qualità il centro che chiaramente a questo punto ha cambiato anche diciamo ragione sociale non si chiama più centro unico nazionale per lo studio dei fenomeni di natura extraterrestre ma lascia la sigla PUN per cui era noto e si chiama centro ufologico nazionale perché c'è stata una ondata nel 73 in cui il termine UFO cominciò a diventare di pubblico romino e allora ci ribattezzavamo così e poi nel 78 avvenne una cosa importante cioè il contatto con il padre dell'ufologia l'astrofisico americano Joseph Allen Hynek che è stato per oltre 20 anni il consulente scientifico di aeronautica americana consulente del film incontri di abbinati del terzo tipo che tra l'altro il titolo Spielberg l'ha besunto pari pari dalla sua classificazione di fenomeni UFO ecco lui ci nominò nominò il PUN praticamente suo referente referente del centro del center for UFO studies suo per l'Italia e quindi fu un salto di qualità molto bellissimo qui siamo a Chicago nel congresso mondiale che fecero andiamo avanti e ecco lì avete visto prima la copertina del suo libro Rapporto sugli UFO che fu pubblicato alla Mondadori un altro libro importante è questo rapito di John Mack andiamo avanti con cui abbiamo avuto ottimi rapporti fino purtroppo al momento in cui è stato ucciso formamente per un incidente in Luggera è stato praticamente visto sotto il nostro ministro Buraco e questo è il più grande esperto mondiale in campo di Adasius e attenzione la sua chiave di lettura non è negativa attenzione perché il discorso dei cosiddetti rapimenti alieni che è un fenomeno che tende a manifestarsi in maniera particolare in particolare dagli anni sessanta lui non la vede come una cosa terribile da tenere negativa ma la vede addirittura come una sorta di monitoraggio da parte di una specie superiore tesa a capire a livello biogenetico come mai l'uomo si comporta come si comporta e cioè dominato com'è da viovenza sopraffazione tendenza a applicare la logica dell'assolutamento dell'uomo sull'uomo e roba del genere non so se questa è la chiave di lettura giusta comunque Mac la pensava così andiamo avanti e la nostra rivista che è attualmente in elicola ancora esiste da 50 anni ma è da 20 anni che è in elicola quindi non è poca cosa non ci sono diciamo primati di questo tipo del mondo andiamo avanti ecco poi per chiudere ricordo che fra il 1997 e il 2002 abbiamo fatto in due edizioni l'unica cosa che è stata fatta di questo genere nel mondo cioè una enciclopedia sugli UFO una oggi si chiama conlezionabile settimanale riunibile in 70 fascicoli settimanali oltre 1600 pagine di testo e 35 video documentari che veramente è stato anche tradotto in lingua spagnola ha veramente fatto ha lasciato in sé andiamo avanti ecco e poi l'ultima cosa da dire il simposio di San Marino San Marino dal 1993 è l'appuntamento mondiale per il simposio sugli UFO che viene fatto da noi con il concorso della Repubblica di San Marino e che ogni anno si presenta quest'anno la nuova edizione la 24esima sarà il 7-8 maggio andiamo avanti ecco adesso a questo punto vale la pena di dire una cosa è vero che io sono stato fra i fondatori del centro e quindi nel 65 dal 65 a oggi sono 50 anni che in pratica mi occupo del tema anche se me ne occupavo da prima sia chiaro però poi è successo qualche cosa che vale la pena di commentare allora nel 1970 io avevo fatto tutti gli studi universitari tutti gli esami universitari però avevo 26 anni e come era normale bisognava fare i militari perché all'epoca se no ti mandavano i carabinieri ed eri in tette alla leva e allora ho fatto un concorso per provare a farlo come allievo ufficiale di complemento l'ho vinto mi hanno preso e mi sono trovato andiamo pure avanti alla terza brigata missili di Portogruano andiamo avanti che diciamo era una unità nato abbastanza importante perché praticamente noi disponevamo di materiale praticamente nucleare tattico andiamo avanti e vabbè questa è roba vecchia comunque le testate che noi disponevamo con un po' unissimo erano testate da guerra nucleare all'epoca c'era ovviamente il confronto West-Ovest non era probabilmente una parzelletta però avviene una cosa in particolare per questo che ne parliamo allora nel 1972 un paio di mesi prima che io mi congedassi il mio comandante di gruppo Nicogo che mi dice tenete ascolti lei si sente all'altezza di fare una conferenza di aggiornamento agli ufficiali superiori della nostra unità sul tema di cui lei si occupa io sono rimasto francamente scroccettato non ne ho aspettato una cosa del genere gli ho detto ma sta scherzando ma no dice si sente all'altezza o no gli ho detto si va bene sono all'altezza bevissima allora va a preparare cosa avviene avviene andiamo avanti che praticamente io faccio questa conferenza e avviene una cosa particolare la conferenza è un totale successo e addirittura andiamo qui davanti il generale comandante se ne innamora e pretende la sua pubblicazione sulla lista militare che è l'organo ufficiale dell'esercito quindi meglio di così non poteva andare però attenzione c'è una cosa importantissima che vi devo dire andiamo avanti un attimo no torno indietro allora quello che vi devo dire è questo mentre stavo preparando questa conferenza mi avvicinano due colleghi americani ovviamente sono gli userni noi lavoravamo ovviamente in ambito nato con gli americani era logico avevamo quattro gruppi uno a Porto Curare uno a Ores uno a Codognè e l'altro a Elbas di Versanone e a questo punto io conoscevo questo capitale questo tenente americani che lavoravano con noi chi deteneva le testate l'unitario della guerra erano gli americani non voi no bene questi si presentano e mi dicono ma tenente ma io nemmeno che sta preparando una conferenza sui UFO non si ah beh interessante che cosa dice in questa conferenza io gli ho detto cosa avrei detto di ricluso il discorso di riporti extraterrestre che ieri come oggi va per la maggior questi non hanno fatto una pietra e poi mi hanno detto ci senta ma lei lo sa che noi negli Stati Uniti abbiamo gli oggetti schiantati al suolo e i calabri dei piloti allora io sono rimasto devo dire perplesso quando mi sono sentito fare questa affermazione per una ragione molto semplice perché all'epoca nessuno parlava di questa roba il primo libro che ha parlato di questo argomento è stato il libro che è stato pubblicato l'anno dopo in Italia apparsa nel 79 negli Stati Uniti su Roswell di Merlitz & Moore quindi capite che la bellezza di sette anni prima questi venivano a fare questo discorso oggi è chiaro che io non posso non leggere questo discorso con occhi diversi anche perché questo capitano indivisa ha fatto non una confidenza ma un discorso a un collega di un paese amico ed alleato quale eravamo all'epoca e quindi sapeva benissimo che questo discorso non sarebbe necessariamente uscito dall'ambito militare dove operavamo tutti e due non è che lui capisse o potesse vedere che la stelletta della sottottenente che aveva sulle spalline era di complemento e che io due mesi dopo me ne sarei tornato alla vita civile quindi andiamo avanti allora poi io mi sono trovato anche a fare delle cose molto interessanti perché dagli anni 60 e questo si sposa perfettamente con quello che ha fatto Mauro Biglino stamattina allora nel 1960 salta fuori una cosa senza precedenti Radio Mosca comunica al mondo praticamente che uno scienziato russo ha scritto un articolo secondo cui visitatori extraterrestri si sono manifestati nel Medio Oriente in antico e che le apparizioni angeliche riferentesi alla distruzione di Sodoma e Gomorra altro non sarebbero che la manifestazione extraterrestri e tecnologica capite che questa cosa ha avuto l'effetto veramente una bomba all'epoca ecco da allora diciamo il fatto che i russi si cominciassero a costare al tema ha fatto sì che anch'io diciamo mi muovesse allora io fin da ragazzino sapevo bene l'inglese ma soprattutto scrivevo molto bene e naturalmente nessuno si poneva il problema all'epoca di dire ma tu quanti anni hai quando mandavi una lettera no? e allora io molto giovane ma molto giovane ho cominciato a scrivere un po' da tutte le parti e ho così non soltanto stabilito rapporti importanti con un sacco di gente che oggi purtroppo è morta e sepolta da tanto tempo ma che studiava il tema a vario livello fin dal primo momento fin dalla prima generazione tra questi i russi che mi hanno risposto tutti in maniera molto dirigente e molto coerente poi nel 74 quindi 10 anni dopo noi anni dopo io mi sono trovato successivamente ad andare a Mosca e ad avvicinare il gruppo di Mosca che faceva capo a quest'uomo che è morto quasi centenari ora ovviamente non è più Alexander Casanzas che è uno scrittore giornalista scientifico russo che è quello che ha fatto conoscere un po' al mondo la faccenda di Tunguska il famoso fenomeno del 1908 che ha creato lui sosteneva che potesse essere un'astonale extraterrestre esplosa con possibile combustibile nucleare perché la distruzione di Tunguska è molto coerente con le modalità di un'esplosione a Mosca e quindi siamo insieme insomma del via Mosca ecco poi cosa succede? succede questo succede tornano a macchina e via ecco questa persona è una persona particolare allora questa persona era l'ufficiale I cioè quello che si diva l'intelligence della regione militare costo-emiliana io ero tornato alla vita civile mi sono trovato un lavoro mi sono sposato lavoravo tranquillamente un bel giorno scoppia l'ondata del 73 ci riuniamo a livello di centro per affrontare il tema ci vediamo arrivare anche questa persona distintissima il quale si qualifica e dice guardi dottore io so lei chi è ho letto che lei è un esperto ho visto la rivista aeronautica con il testo della sua conferenza quindi io le chiedo visto che io qualche volta mi sono anche io per servizio imbattuto in queste cose se dovesse capitarmi di avere bisogno di una consulenza lei sarebbe disposta a darla ovviamente il delettorismo allora fra il 1973 e il 1980 di comune accordo lui mi ha passato alcuni casi militari che mi sono successi vi dico subito niente di particolarmente trascendentare anche se c'erano degli atterraggi con entità al suono ma non diversi dai casi che noi come sempre abbiamo inchiestato in un greco volte sul territorio nazionale perché non è che se il testimone ha una divisa o no vede cose diverse vedono tutti le stesse cose cosa succede a un certo punto io però al colonnello dopo aver dato un certo numero di indicazioni consigli opinioni e via di cielo gli chiedo anche un go to death no? si ho capito ma mi si può dire qualcosa e allora e qui arriviamo dunque nel 1978 mi arriva il regalino ci arriva il regalino al centro alla segreteria cioè viene mandato d'ordine firmato generale battaglia dallo stato maggiore difesa il primo dossier ufficiale sugli UFO in Italia realizzato dalla nostra difesa chiaramente per uso di studio la cosa ovviamente ci ha scosso perché ha completamente cambiato tutto gli UFO esistevano se ne occupavano a livello di governo e quindi tutto cambiato andiamo avanti e qui diciamo c'è da dire una cosa poi scoppia la grande ondata del 1978 2000 segnalazioni sull'Italia una cosa fuori di testa il governo non sa più che puoi ci prendere interrogazioni parlamentari piloti che inseguono il UFO radaristi giornalisti che li vedono professori universitari che li avvistano ufficiali dove tre armi pure una cosa fuori di testa a questo punto cosa avviene? il senatore Andreotti che allora era il governo decide praticamente di far sì che l'aeronautica segua regolarmente il tema e tutt'oggi il tema dell'UFO è seguito dal reparto generale sicurezza dell'aeronautica militare italiana che poi sono i servizi di intelligence dell'aeronautica che non si occupa sull'UFO ecco adesso qui sono documenti che non ha po' importanza leggere nei dettagli questo è l'atto di nascita di questa iniziativa ufficiale andiamo pure avanti e sì vai vai ecco un'altra cosa importante dopo l'ondata del 78 avviene qualcosa che anche qui non potevamo prevedere vi era stato alla Camera dei Lords inglese uno storico dibattito innescato dal Conte di Clangarty che era un fervente diciamo credente nel tema dell'UFO che innescò per due giorni un dibattito storico sul tema dell'UFO alla Camera Alta inglese poi cosa successe? successe che vi venne fuori il fatto che si creò un gruppo per lo studio dell'UFO alla Camera Alta inglese alla Camera dei Lords e allora avvenne una cosa che non ci aspettavamo fu chiesto a me di andare a Londra alla Camera dei Lords a relazionare sull'ondata del 78 io chiesi praticamente al governo italiano chiesi all'Aeronautico Militare di affiancarmi nell'occasione dell'Agetto Militare Aeronautico a Londra non lo fecero io andai relazionai andò tutto temone quando tornai però mi fu ufficialmente chiesto di dare il testo per pubblicazioni immediata sull'organo ufficiale dell'Aeronautica Militare cioè la Ministra Aeronautica ed eccola lì andiamo avanti poi abbiamo avuto modo anche di collaborare prima vi ho detto che la Francia dal 77 segue il fenomeno autonomamente e lo fa in funzione anti-americana vorrei essere molto chiaro questo perché i francesi sanno benissimo che gli americani sanno tanto se non tutto ma non dico nulla a nessuno e non vogliono essere secondi a nessuno è per questo che si sono fatti questa commissione che si chiama Gepin che a Tolosa si occupa dell'UFO ecco qui molto più giovani ovviamente siamo a Tolosa perché con i francesi con gli scienziati francesi abbiamo anche collaborato a fondo su questo tema quindi diciamo non ci siamo fatti una carenuta andiamo avanti e questo è l'ultimo non l'ultimo è il penultimo direttore Jean-Jean Belasco del Gepin francese andiamo avanti e ecco poi un'altra cosa abbastanza importante nel 1992 lo stato sovietico si risolve e avviene una cosa abbastanza importante un nostro amico e collaboratore Baris Shunov che è direttore di un'associazione civile di ricercatori sull'UFO Ussa ci informa che esiste un dossier segreto del KGB sul tema dell'UFO e che questo dossier all'indomani della disintegrazione dell'Unione Sovietica è lì per essere venduto alla CIA da due alti ex dirigenti del KGB che ovviamente si ritrovano nel materiale che non hanno avuto nessun'altra migliore idea se non vendere i vecchi in ucci naturalmente quando l'abbiamo saputa abbiamo detto cavolo è una cosa scandalosa lei dice si infatti beh dico scusate ma che cosa si può fare ah dice noi ne abbiamo copia e allora dico scusate divulgatela ma stai scherzando qui da noi a Mosca non se ne parla neanche dice semmai fatelo voi e allora l'abbiamo fatto noi ed è stato molto interessante perché abbiamo preso questo documento che sono 12 anni di indagini nell'ultimo periodo dell'Unione Sovietica che fa vedere perfettamente che i ucci vedevano le stesse cose che altri e più ne meno e cosa avviene questo documento viene mandato dopo essere stato tradotto a tutti gli enti di stato di governo e di intelligence italiani i quali tutti rispondono dicendoci grazie poi abbiamo dato il giornale quindi in pratica abbiamo come dire tamponato una situazione che altrimenti avrebbe reso impraticabile questa documentazione importantissima andiamo avanti questo vabbè inizialmente l'abbiamo pubblicato sulla nostra rivista per dare un dato al giornale andiamo avanti pure eh vabbè queste sono le lettere questa che era di Berlusconi lasciamo vedere via via andiamo pure ecco no no ma nel senso che no interessante c'è stata una cosa il ministero della ricerca scientifica ci convocò perché era interessato a realizzare un progetto finalizzato sul tema questa è una cosa molto importante se no che purtroppo il governo Berlusconi cadde due mesi dopo per cui la cosa avruttì questo per la prova andiamo avanti ecco ho la successiva sì no queste sono sono momenti io la pure indietro un secondo sono momenti storici diciamo della casistica italiana per esempio lo stop della partita di calcio del 54 Fiorettina di Sonese a Firenze con la caduta di questa sostanza biancazza virtualizzata la prima volta al mondo no mentre appunto cadeva da Lufo la successiva fa vedere queste fotografie che apparentemente sono state poi etichettate come falsi però non è poi così del tutto chiaro che potrebbe esserci stata un'operazione tesa a farvi passare come tali poi nel 54 una grandissima ondata con quattro tavole della Domenica del Corriere che quell'anno furono dedicati a Lufo non vi dico altro su Roma ecco e poi arriviamo agli anni 60 con addirittura intercettazioni di caccia italiani dell'UFO quindi nell'Uovo Italia su Piacenza per esempio andiamo avanti e addirittura materiale fotografico importante questo per esempio è un caso di cui ci siamo come dire occupati noi in maniera molto approfondita è l'apparizione di un oggetto tubolare madre che emette oggetti più piccoli nel cielo del Gargano e che è stato ripreso con due scatti molto interessante qui si vede in primo piano l'oggetto che è uscito da questo oggetto tubolare o cilindrico che mi fuori è l'oggetto madre più lontano perché il problema come avrete visto prima dalla prima immagine ci sono oggetti di forma dimensioni e funzioni diverse quando dico dimensioni voglio dire che gli oggetti madre cilindrici o tubolari sono lunghi fino a 400 metri mentre gli oggetti più piccoli possono avere un diametro non più di 10 12 metri andiamo avanti ecco poi ci sono casi importanti tipo per esempio quello del colonnello Mainini oggi in generale dello Stato Maggiore che ha inseguito un UFO nel 78 con lo suo F-104 e così via ecco l'Aronautica Militare cosa fa? ufficialmente tuttora si occupa del tema seguendolo scheda i casi andiamo avanti e naturalmente gli scheda in maniera molto interessante ora senza entrare troppo nei dettagli vale la pena di dire che i moduli prestampati devono essere solo fincati no? e hanno la stampidatura riservatissimo quando compilato oggi formalmente tutto è stato declassificato però su questo poi ci torniamo un po' andiamo avanti ecco la cosa interessante è per esempio qui ve lo dico perché è molto divertente non lo potete leggere ma queste sono le caratteristiche degli UFO no? dovete solo fincare e così poi tutto diventa computerizzabile allora dice dimensioni dell'oggetto no? da 0 a 1 metro da 1 metro a 10 metri da 10 a 100 metri più di 100 metri scusate se viene fatta una simile distinzione vuol dire che ci sono rapporti che prevedono tutto questo perché se no non ce lo metterebbero la cosa più divertente poi è da ultimo dove si parla addirittura di percorsi preferenziali battuti dall'UFO è l'ultimo parametro quindi capite che anche un modulo non compilato come questo la dice lunga andiamo avanti e questa addirittura sono le istruzioni all'arma dei carabinieri su come segnalare gli UFO c'è un esempio nel manuale dell'arma dei carabinieri che spiega agli enti di indirizzo come articolare la segnalazione eccetera eccetera perché l'arma dei carabinieri come la gendarmeria in Francia è proposta sul territorio nazionale a esperire le inchieste sull'UFO andiamo avanti questa è la seconda parte andiamo avanti ancora ecco nel 2000 abbiamo avuto un evento senza precedenti a San Marino durante il congresso mondiale grazie all'intelligenza del capo di stato maggiore dell'Aranafia generale Arpino abbiamo avuto una delegazione indivisa di tre esponenti fra cui il responsabile generale di vero del reparto generale di sicurezza che sono intervenuti per la prima volta in un congresso civile a relazionare sui dati dell'aeronautica andiamo avanti e vedete che per esempio i casi che loro analizzano questo per esempio è un caso del 79 è molto scarmo ci sono le caratteristiche e successivamente vediamo per esempio di che si tratta si tratta dell'intercettazione da parte di un Fiat G91 un caccia dell'aeronautica di un oggetto di quel tipo e successivamente voi vedete la foto perché vai va giù ecco perché l'oggetto ha fatto l'oggetto scusate il pilota ha fatto un'ottantina di scatti a questo oggetto qui siamo nel cielo di Tremiso e l'oggetto è lì ve lo trovate davanti andiamo avanti ah poi ci sono e questo è importante non soltanto gli oggetti ma ci sono addirittura le entità qui si parla chiaramente ad Atripauda no? siamo nel 1984 si esatto dove si parla di umanoide tuta casco eccetera ma siamo pazziti cioè questo è un rapporto ufficiale dell'aeronautica e lo abbiamo scritto noi andiamo avanti qui è un altro caso doppio nello stesso giorno in località diverse cioè in Campania e in Toscana andiamo avanti si vedono due entità diverse impossibili di questo tipo quindi come vedete l'aeronautica scheda anche questa roba qui gli incontri avvicinati del terzo tipo andiamo avanti ecco gli incontri avvicinati del terzo tipo sono di vecchia data in Italia chi non ricorda la famosa tavola di Walter Molino del 54 della donna che si trova di fronte agli alieri che poi gli portano via una calza e dei fiori questo è uno dei casi meglio documentati che abbiamo al mondo ed è assolutamente successo questa donna ha toccato questi essi andiamo avanti poi vedete le tipologie che tornano qui siamo nel 62 e qui è un metronotte di Milano che si vede scendere un oggetto da cui rimanendo però in sostentazione non è sceso al suolo quindi a due o tre metri di quota da cui esce una figuretta più piccola scafandrata che lui vede successivamente non siamo nel 62 ma siamo nel 78 la stessa scena si ripete a tornita di Siena e questo è un caso investigato direttamente dal sottoscritto e dal colonnello primitera ufficiale Ingel con Milter con una R i carabinieri e tutt'altro i dati relativi a questo caso fra cui le tracce che l'oggetto lasciò furono analizzate all'Euratom di Ispra che confermò il fatto che il terreno era stato sottoposto a circa 600 gradi di temperatura per una frazione temporale non superiore ai 3 secondi quindi non poco andiamo avanti ecco un caso simile questo qui una donna un marisciallo dei carabinieri che a Firenze dal sesto piano mentre andava in bagno alle 4 e mezza di notte vede una luce tira su la tapparella e si vede un oggetto che come vedete è molto simile ai precedenti con due entità che la guardano andiamo avanti ecco poi torniamo al discorso degli oggetti sommersi questo è un caso di dicembre 78 in cui per 4 ore i cittadini di Bellaria hanno assistito alle manovre di oggetti che entravano e uscivano dall'acqua all'orizzonte e questi sono foto ufficiali fatte fare dai carabinieri al migliore fotografo di Bellaria che fu buttato giù dal letto per farle quindi come vedete di che parliamo andiamo avanti ecco una cosa allora a tutt'oggi a fronte del fatto che il centro ufologico nazionale in 50 anni ha dossierato circa 12.000 eventi ufologici nel ventesimo secolo l'aeronautica militare ha una casistica piuttosto ridotta sono circa 450 dossier ufficiali sono molti ma è normale la gente non va alle autorità a dire ho visto un ufo non lo fa nessuno tutti hanno o timore o paura o reverenza o non ci vanno addirittura perché temono di essere presi in giro temono che professionalmente possono avere qualche danno o altro no? quindi capite che la situazione sta così qui però c'è una cosa importante qualche volta c'è camminato fra le mani qualche dossier che non avremmo dovuto avere che non figura tra i dossier dell'arola e questo è sconcertante anche perché questo non è un dossier eccezionalmente importante è un semplice avvistamento di un oggetto minuoso ma insomma nulla di trascendentale come mai? beh signori vedete questo rapporto forse ci dà la spiegazione andiamo avanti esso contiene questo timbro eccetera un po' secondo storico ufficio operazioni l'ultima lettera l'ultima riga che forse non leggete c'è scritto distruggere dopo il perché? perché molta casistica viene eliminata è scomoda e allora la si brucia la si incendisce e non è una battuta è previsto andiamo avanti vedete distruggerelo qui oh per esempio un altro caso di cui non si sa nulla è l'avvistamento di uno di questi oggetti da parte di una persona particolare io sono venuto a sapere di questa cosa casualmente da Gianni Visiac durante una trasmissione televisiva che mi confermò che negli anni 60 l'importante uomo politico italiano aveva vissuto una vicenda ai confini della realtà la sua auto era stata spruvolata chi è? chi è? chi è? ah no non posso perché sai ma vabbè alla fine il diavolo fa il petto di Manolico Berchi un noto ufologo americano Jacques Vallée famosissimo no? beh tutti sanno che ha collaborato con la volontà militare americana per ragioni professionali lui ha raccolto questa testimonianza questa testimonianza lui l'ha riportata in un libro dove parla dell'ufologia in America parla dell'ufologia in Francia in Spagna e in Inghilterra poi dice in un altro paese europeo un caso eccezionale si è verificato e ha coinvolto l'alturato del capo dello Stato signore questo caso è avvenuto in Italia ha interessato l'autista del presidente della Repubblica Antonio Schenghi né più né meno nella tenuta presidenziale di Castelpozziano quando noi abbiamo fatto notare all'NVPS che loro non avevano questo caso mi sono sentito dire e beh dottore lei capisce bene lei ha fatto il militare sa che c'è una classifica di segretezza secondo vari livelli non crederà mica che una cosa che riguarda il capo dello Stato ci finisce a noi no? grazie prego andiamo avanti ecco poi c'è il fatto molto più recente di Caronia dove dove mi abbiamo visto di tutti i colori allora a Caronia si sono manifestati diciamo fuori dai denti senza tema di smettite perché ci siamo stati l'abbiamo detto senza nasconderci dietro dillo si sono manifestati più volte fenomeni ufolodici e fenomeni uso cioè oggetti in atto andiamo avanti qui c'è addirittura il coinvolgimento del CISAM cioè del centro interforze studi e applicazioni militari che si è occupato quindi non si è occupato soltanto la protezione civile siciliana e l'altra immagine ci fa vedere per esempio questa segnalazione lì in zona di un uso di un oggetto sommesso non identificato non solo c'è la segnalazione anche di un elicottero della protezione civile che si incontra uno di questi oggetti quindi signori poi come è andata a finire all'italiana andiamo avanti è andata a finire che si è detto per i periti che c'è dietro una mano umana perché chi volete che ci sia e allora ultimamente si è cercato persino di dare la colpa a qualcuno che non c'entra nulla perché i fenomeni di caronia sono dovuti a induzione di tipo elettromagnetico questo lo sanno ormai anche i gatti ma le autorità si nascondono dietro un dito perché ovviamente non si possono permettere di dire le cose come stanno né tanto meno di rimborsare in qualche modo i residenti che poi forse avrebbero anche ridito andiamo avanti o naturalmente il fenomeno UFO non è che nasce nel 47 no 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 qui siamo nel 46 questa è una vecchia rivista sul tipo della Domenica del Corriere di L'Illustrazione d'Italia che parla della comparsa su Firenze nel 46 di quelli che vengono chiamati ranzi fantasma e che li vediamo anche in Grecia e in Scandinaria ma per forza c'era stata la seconda guerra mondiale con le V1 e le V2 un oggetto infuocato nel cielo che cos'era era un razzo un razzo fantasma no era un UFO andiamo avanti e andando indietro sorpresa negli anni 30 anche il fascismo si è confrontato con questo fenomeno andiamo avanti allora cosa avviene avviene va bene noi abbiamo parlato in questo libro che poi ha avuto una reedizione di Oscar Mondadori andiamo avanti pure ecco quello che è importa questa addirittura è la citazione che mi ha fatto Timothy Wood dove c'è una copiosa menzione di questa cosa vai un po' avanti perché ci sono varie cose che riguardano Wood vai 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 almeno per 5 o 6 vai 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 ancora ancora ecco altri allora che cosa sono questi sono i cosiddetti file fascisti cosa avviene nel 96 noi riceviamo del materiale originale da parte del ripote di un membro di una commissione di inchiesta solo per l'epoca fascista coordinata da Guglielmo Marconi scusate se è poco il gabinetto RS 33 ricerche speciali 33 che praticamente ci fa toccare con mano su documenti carta e inchiostro d'epoca segnalazioni ufologiche negli anni 30 e questo è incontestabile qui siamo addirittura nel 35 non sappiamo se questo sia un fenomeno astronomico o un fenomeno ufo ma qui addirittura siamo alla vigilia dell'intervento italiano in Etiopia andiamo avanti e qui invece vediamo i documenti mandati a mani di sua eccellenza Gagliazzo Ciano per la cronaca andiamo avanti pure ecco questo è il rapporto più interessante andiamo pure avanti c'è addirittura il disegnino nel cielo di Mestre nell'anno 14 nell'era fascista 1936 cacciatori cioè caccia della regia aeronautica inseguono per un breve periodo di tempo questo oggetto tubolare o attorpenne come viene descritto con oblò assolutamente uguale alle navi sigaro degli anni 50 e 60 che emette dietro di sé due oggetti a forma di cappello da prete come da manuale rispetto alla casistica attuale solo che questo rapporto è su carta del 1936 andiamo avanti questi sono telegrammi che chiaramente secretano tutto molto interessante andiamo avanti questi sono i fai fascisti ma attenzione poi con il 40 questi studi degli italiani su questi mezzi che ovviamente Mussolini pensava semplicemente essere una nuova arma inglese francese o tedesca questa era l'idea cosa avviene? passano nelle mani dell'aleato germanico dei nazisti i quali poi cercheranno di realizzare qualcosa tanto è vero che c'è un progetto italiano-tedesco dell'ingegner Mite e dell'ingegner Belluzzo di un vero e proprio disco volante che non fu però mai realizzato c'è solo il progetto andiamo avanti dottor Pinocchio un attimo si prego volete salutare un attimo la platella certo ci sarei vai grazie semplicemente volevo ringraziarvi siccome devo partire per via di aereo e quindi buon proseguimento a tutti grazie l'accidentità da parte dell'autorità l'ha realizzata anche Mosè esatto ce la racconta Giuseppe Flavio c'è un tempo sapete che Mosè nessuno l'ha visto morire cioè è andato con i suoi due poi scomparsi in una valle Giuseppe Flavio si dice che arrivò una nube se la porto via la nube nella Bibbia sappiamo che cos'è e Giuseppe Flavio scrive poi Mosè scrisse che era morto perché nessuno pensasse che se n'era andato con quelli là ciao signor Matteo ciao ecco una cosa divertente è che dal momento che qualcuno ha detto ah ma va bene voi avete questi documenti li avete fatti periziare ma non è storia non sono documenti storici perché non ci sono indicazioni da nessuna parte abbiamo sentito l'aeronautica militare che ci hanno detto dottore come lei ben sa dopo l'8 settembre i tedeschi hanno lasciato Roma città aperta e si sono portati via a mezzi i nostri archivi poi sono arrivati gli americani che si sono portati via anche loro Roma quindi cosa vuole se c'era qualcosa oggi non c'è più ma la cosa divertente è un'altra che non contenti di questo abbiamo fatto una verifica che è stata coronata da successo siamo andati a beccare negli archivi delle prefetture per vedere un pochettino perché abbiamo ragionato abbiamo detto ma caldo se c'era questa cosa ma era ragionevole che i prefetti all'epoca ne sapessero qualcosa che erano presentati del governo avrebbero dovuto segnalare qualcosa al governo centrale signori i telegrammi su questi oggetti ci sono ne abbiamo beccati un centinaio questo addirittura ve lo faccio vedere perché è divertente qui c'è il prefetto di Valona cioè siamo in Albania perché nel 39 Vittorio Emanuele III era re d'Italia e di Albania in base da noi e imperatore di Etiopia quindi vedete che si riscontra che il discorso calza andiamo avanti e tira pure davanti ecco una cosa veramente importante è che tutto questo discorso di far fascisti sarebbe stato innescato a quanto sembra dalla caduta di uno di questi oggetti che quindi ci sarebbero stati solo i frammenti i lottami in Lombardia e i lottami di questa roba sarebbero stati tenuti presso gli hangar della Siai Marchetti e via dicendo ma non è questo il punto andiamo avanti ecco a un certo punto salta fuori una storia strana questo signore che voi venite a destra era un colonnello pilota dell'aeronautica militare americana il figlio che voi venite lì bambino vai avanti pure ce lo siamo ritrovati a San Marino durante il congresso vai pure avanti e questo signore che si chiama Brofi quindi è Brofi ci ha detto guardate che non solo mio padre a me mi ha detto ovviamente che l'ufo ci sono che l'aeronautica militare americana se ne occupa tutte queste belle cose ma mi ha anche detto che risulterebbe che dopo la seconda guerra mondiale del materiale sarebbe stato portato dall'Italia negli Stati Uniti quindi vedete che il discorso si ampia andiamo pure avanti ecco come si ampia il discorso degli ufo caduti qui siamo nel 1987 e per la prima volta si comincia a parlare di questo tema in maniera massiccia oltre Roswell perché oltre il caso di Roswell famoso nel 1947 e andiamo avanti Roswell se ne è parlato per la prima volta appunto come dicevano nel 1947 andiamo pure avanti e non potevamo evitare di vedere un pochettino all'epoca se c'era modo di riscontrare delle cose nel 1991 con l'amico Antonio Neus che è un cileno americano con l'amico Javier Sierra che vuoi vedere da destra che è uno spagnolo mi sono venuto più in più dal centro siamo andati a Roswell in occasione di un congresso fatto negli Stati Uniti e abbiamo inchiestato investigato il caso di Roswell sul posto mi risulta che sono stato l'unico italiano che l'ha fatto andiamo avanti quello che importa è che non soltanto ci siamo confrontati con ex militari che ovviamente ci hanno dato un sacco di informazioni ma ecco ci siamo vai pure avanti ci siamo visti anche per esempio questo signore che oggi è morto purtroppo che è stato il tenente Holt che è quello che ha diramato il comunicato ufficiale dell'esercito quindi non di Ciccinella dell'esercito americano che diceva che era stato recuperato un disco volante che era stato portato all'interno della base di Roswell e che ulteriori dettagli sarebbero stati forniti in seguito chiaramente noi gli abbiamo chiesto ma cosa ne sai cosa ne pensi e prima che io ho eseguito ordini il mio comandante mi ha detto di diramare il comunicato e il disco volante c'era l'avevamo noi nell'altra punto andiamo avanti e qui c'è un altro testimone ora questo è ancora vivo ma non so per il quadro e questa gente ha 90 anni personati ormai eh rendetevi conto allora questo qua addirittura sarebbe stato il vecchino diciamo pure che sarebbe stato interpellato dalla base di Roswell in relazione ai corpi quindi capite che anche qui il discorso si copica andiamo avanti e andando ancora più indietro nel tempo avviene un evento molto particolare 1942 23 di febbraio Los Angeles viene sorvolata da qualcosa è impatico siamo a poche settimane da Pearl Harbor il terrore perché si pensa che i giapponini siano arrivati in California fasci della contraerea 20.000 salve sparate contro quella roba apparentemente nessuno se ne rende conto due giorni dopo non ne parla più nessuno perché non sono cadute bombe non è successo nulla non sono i giapponesi ovviamente ma anni e anni dopo qualcuno dirà ma aspetta un po' di UFO ma non vedi questa roba era già qui nel 1942 eccola lì andiamo avanti e qui addirittura assistiamo a una cosa sconcertante quest'anno a San Marino abbiamo fatto venire questo pilota quasi 90 anni non vi arrivereste quasi 90 anni mi erate 70 no quest'uomo ha fatto la cadena militare aeronautica negli Stati Uniti ha fatto il pilota da caccia in Francia con l'armée de l'air e poi l'ultimo è andato in pensione non contento a far parte di pilota civile oggi fa parte dell'associazione aeronautica astronautica francese e che cosa fa? ha scritto un libro che è una cosa agghiacciante è intitolato 1942-1954 Genesi di un segreto di Stato andiamo avanti che cosa ha tirato fuori lui? ha tirato fuori due lettere e sapete come le ha avute? le ha avute andando in America con il Freedom of Information Act ha richiesto questi documenti e gliel'hanno dati perché lui non li ha chiesti al Ministero della Difesa li ha chiesti al Ministero della Giustizia e qualche volta la destra non sa cosa fa la sinistra sapete cosa sono questi due lettere? sono terrificanti una è del 42 e dice che durante la battaglia di Los Angeles quella che avete visto prima con le fotografie ufficiali sarebbero stati abbattuti dalla contraerea americana due venivoli due venivoli i quali sarebbero stati recuperati e c'è il commento del generale Marshall mandato al Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt che dice che apparentemente non sembrerebbero oggetti di costruzione convenzionale e terrestre e si chiede la costituzione della commissione richiesta poi due anni dopo c'è una seconda lettera del Presidente Franklin Delano Roosevelt che dice testualmente che le tecnologie besunte dagli oggetti celesti cosa sono oggetti celesti? devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per vincere la guerra nel più breve tempo possibile contro la Germania e il Giappone qualun contenore discorso a riguardo dovrà essere procrastinato signori in altri termini c'è il caso che la prima caduta di un UFO sia del 42 andiamo avanti vai pure vai pure ecco e poi questo non fa che confermare quello che ha detto a suo tempo il colonel of the course ha detto all'intelligence con il Presidente Eisenhower il quale praticamente ha scritto un libro il successivo lo vedete qui la copertina accade a Roswell no scusate il giorno dopo Roswell il quale praticamente dice in sostanza che il governo americano dovrebbe essere accusato di mendascio perché non soltanto a Roswell è caduta con una stradale extraterrestre ma la tecnologia desunta da questo oggetto è stata utilizzata per far avanzare notevolmente la tecnologia americana quindi le fibre ottiche le fibre ultra resistenti cioè il keglar quello che poi ha portato definitivamente al laser e quello che poi ha portato ai microchip sarebbe tutta tecnologia resoluta dai mortali di questi oggetti andiamo avanti e qui assistiamo a una cosa particolare e cioè alla leggenda alla leggenda perché tale è stata fino a non molto tempo fa secondo cui nel 54 una delegazione di alieni discesa da dischi volanti da UFO chiamateli come volete preparata accuratamente attenzione non casuale si sarebbe verificata in due località nel 54 presso la base californiana di Edwards a New York Airfield e la seconda volta la base di Holloman nel New Mexico allora il presidente americano si sarebbe trovato a discutere con questi esseri non dissimili da noi di provenienza extraterrestre i quali sostanzialmente avrebbero detto che fate lo dite alla gente come stanno le cose o no le conclusioni del presidente sarebbero stati che non si poteva dire nulla alla gente perché il sistema sarebbe collassato in 5 minuti e devo dire forse non era tutti noi andiamo avanti e qui vediamo l'anno scorso la pronipote del presidente Eisenhower Laura Magdalene Eisenhower l'abbiamo fatta venire a San Marino per quello che può valere perché la sua testimonianza ci si può credere o non credere lei dice io non ho uno straccio di prova però vi posso dire che a me risulta da un punto di vista familiare che tutta la storia che riguarda questa faccenda e che riguarda il mio bisnonno è vera e fondata punto andiamo avanti e però cosa sarebbe successo non era così semplice alla prima riunione quella di Murrow-Keyerfield cioè quella della base di Libras in California Eisenhower avrebbe fatto venire anche un certo numero di esperti fra cui sapete chi? questo qua che era l'arcinesto di Rossellers cattolico McIntyre quest'uomo andiamo avanti una volta diventato cardinale avrebbe poi informato fatto a più di un decimo di questa cosa quindi il Vaticano sarebbe stato informato quasi dall'inizio ma poi la Chiesa si sta muovendo e si muove in maniera molto particolare allora intanto diciamo una cosa qualcuno potrebbe pensare che la Chiesa potrebbe essere stata disturbata no? da questa cosa e invece no allora nel 52 un gesuita americano padre Francis Connell scrive un articolo sull'Acoa in cui dice praticamente che l'idea di essere extraterrestri in visita alla Terra è assolutamente accettabile e che i principi della religione cattolica non hanno nulla il contrario punto però la cosa passa un po' così sotto banco il baggetto non è molto attento invece negli anni 60 e 70 a cavallo c'è un evento particolare quest'uomo un grandissimo teologo cattolico padre Domenico Grasso scrive una serie di articoli a favore dell'ipotesi extraterrestri dicendo che non può che essere così gli extraterrestri non possono non esistere e lo scrive questo sulla civiltà cattolica che è l'organo ufficiale della compagnia di Gesù andiamo avanti e poi chi non ricorda poi lì è morto cinque anni fa è Monsignor Baducci che è andato oltre ogni possibile speranza nel andare a dire tranquillamente che non c'è alcun dubbio siamo visitati da essere extraterrestri a bordo di astronomi gli UFO sono questo e null'altro non c'è nessuna contraddizione con i principi della fede cattolica e resta soltanto da vedere un po' come la cosa si evolverà quando gli chiedevamo a Monsignore queste cose che lei dice sono coraggiosi importanti ma sono sua opinione e lui seriamente diceva ma vedete quando qualcuno di noi fa affermazioni che Santa Romana Chiesa ritiene non siano in linea con quelli che sono i suoi insegnamenti ce lo dice ah è vera lei non è mai detto qualcosa male andiamo avanti adesso abbiamo assistito anche a qualcos'altro vedete questa roba questo è un telescopio binoculare avanzatissimo che in sigla in sigla perché sapete che gli americani amano gli acronimi le sigle si dice Lucifer Lucifero perché praticamente è light e via dicendo non vi risparlo il resto allora questo telescopio binoculare avanzatissimo dov'è? è il telescopio della specula vaticana l'osservatorio ufficiale del vaticano ma non opera nella sede canonica della specula vaticana che è Castel Candoff dove c'è la sede ottocentesca opera su molte gravi in California gomito a gomito con gli astronomi americani di punta e quello che voi vedete adesso il successivo è se non ho avuto esatto padre Funes il direttore della specula vaticana fino a un mese fa che adesso è stato sostituito da un'altra persona di cui adesso parleremo lui nel momento in cui si è insediato ha rilasciato una intervista prego lui è gesuite e argentino come il papa oltre che astrofisico allora l'extraterrestre è il mio fratello perché? perché lui ha detto l'universo è un'unità di vita è impossibile che un giorno noi non incontreremo civiltà extraterrestre avanzate quando questo avverrà dovremo considerarmi i nostri fratelli del cosmo scusate se è poco andiamo avanti o anche noi come centro ufologico nazionale abbiamo fatto qualche cosina due volte abbiamo fatto conferenze all'interno delle mura leonine cioè nella città del Vaticano formalmente sono conferenze culturali però è sintomatico che le autorità vaticali ce le abbiamo fatte fare e che i giornali ne avevano parlato andiamo avanti altra cosa importante è che l'Accademia Vaticana no? abbia realizzato il primo grande congresso di astrobiologia cioè la vita dell'universo nella città del Vaticano cinque anni fa come mai? come mai questa attenzione particolare? andiamo avanti allora se andiamo a guardare il discorso della vita extraterrestre vabbè chi è che non conosce Frank Drake il creatore del SETI no? la commission no a cui sono l'organizzazione dell'area astronomica che auspunta l'universo con i radio telescopi per cercare un segnale intelligente che ancora formalmente non sarebbe venuto andiamo avanti e vediamo una cosa interessante per dieci anni io ho operato in una società aerospaziale italiana la Futuro SRN che però ci ha permesso questo caso mi ha permesso di partecipare a congressi accademici e astronauci internazionali di altissimo livello fra cui quelli relativi al SETI e per due anni consecutivi mi hanno coinvolto con lavori di macrosociologia perché io sono sociologo formalmente a proposito del tema dell'UFO per la serie va bene ma se domani captiamo il segnale cosa facciamo? e allora io gli ho fatto una relazione che è citata in un sacco di pubblicazioni scientifiche internazionali per un altro che è intitolata Contact Releasing Use cioè il contatto e la diffusione della notizia e il successivo l'anno dopo è questo qui che è vediamo se si vede sì l'UFO l'intelligenza extraterrestre il SETI e il pubblico di oggi andiamo avanti ecco poi puoi andare avanti così bene no ma questo è per dire che anche questi ambienti sono assolutamente permeabili al tema aggiungiamo che fra l'altro l'anno dopo il SETI ha prodotto il cosiddetto SETI post detection protocol che è un protocollo che dice cosa andrebbe fatto se e quando si capta il segnale intelligente guardate che le conclusioni sono molto deludenti il protocollo in pratica dice che a sapere il pubblico sarà l'ultimo perché prima ci saranno almeno 7-8 siti con testi ambienti commissioni organismi che devono valutare la cosa perché non è uno scherzo dire al mondo che non siamo soli ecco poi nell'immunicato è successa una che è molto importante allora una commissione parlamentare americana si è riunita a Washington al ciclo della stampa che è il tempio mondiale dell'informazione e per una settimana ha praticamente affrontato una settimana di lavori sul tema di bufo perché perché i costori si sono risicolti che il governo americano non gli dà nessun tipo di informazione e allora hanno avuto la bella idea di dire facciamo una bella cosa coinvolgiamo delle major degli sponsor e organizziamo una conferenza con 40 esperti mondiali venuti da tutto il mondo e gli facciamo dire le loro opinioni sul tema poi tireremo le conclusioni e vediamo è quello che è successo allora 40 esperti mondiali 10 paesi rappresentati che sono gli Stati Uniti il Canada la Cina l'Inghilterra l'Italia lo rappresentare io e poi 5 nazioni latinoamericane Brasile Argentina Perù Uruguay e Cina bene cosa è venuto fuori qui vabbè siamo questa è la telefoto internazionale che è andata in giro per tutto il mondo e fa un livello di giuramento io sono l'ultimo a destra dei personaggi perché funzionava così no tu arrivavi giuravi e venivi interrogato per un'ora da questa gente interessantissimo però quello che importa sono le conclusioni le conclusioni sono che le ha riportate il New York Times con un grande allievo 1. il fenomeno UFO è indiscutibilmente reale e oggettivo 2. il fenomeno UFO è di natura tecnologica 3. il fenomeno UFO è di natura tecnologica avanzata 4. il fenomeno UFO non ha nessun tipo di origine qui sulla terra conseguenza logica sarebbe saggio che di questa cosa se ne occupasse non il governo americano eh perché ovviamente se no si andava con una zappa su piedi ma le Nazioni Unite soltanto che voi sapete e capite che le Nazioni Unite c'erano per altri problemi andiamo avanti ecco questo per esempio è il referente del Canada l'ex ministro della difesa Paul Elie questo tranquillamente gli dice abbiamo gli extraterrestri in casa sarebbe bene cominciare a dirlo alla gente andiamo avanti qui vabbè questa è la discussione che abbiamo fatto per le Nazioni Unite la terza più illusione andiamo avanti ecco più illusione anche perché siamo stati a un passo nel 78 dalla costituzione di una commissione permanente ONU su Dufo ma è stata fatta votire perché? perché lo Stato proponente Grenada era arrivato a un passo ormai dalla costituzione bastava votare la cosa in assemblea generale sapete cosa succede nell'arco temporale in cui l'assemblea generale doveva riunirsi per votare? un colpo di Stato rovescia il governo legittimo di Grenada i malini dicono che gli Stati Uniti l'hanno fatto succedere perché gli conveniva no? e la cosa è andata in bacca scusate il termine quindi capite andiamo avanti e sua Santità e Dalai Lama cosa dice? è stato intervistato quattro anni fa a New York e ha spiazzato tutti poverino perché gli hanno detto Santità cosa ne pensano cosa ne pensano e gli ha detto 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 ma nel buddismo tutti saranno che esistono e non sono troppo diversi da noi anche questo scusate se vuoi vai? qui è John Mack ve lo ricordate l'esperto in abduction con Dalai Lama quindi gli ha fatto un po' la scuola andiamo avanti ecco guardate che lo scenario non è cambiato molto da tanto tempo fa questo è Lord Dowling il vincitore della battaglia all'Inghilterra vinta dall'Inghilterra contro la Musfaffe tedesca durante la seconda guerra mondiale allora lui è alla base se vogliamo del fatto che il povero consore ha detto Pergo poi si occupasse di UFO in maniera concreta dicendo beh ma cavolo questi sono esattamente eccetera perché? perché Pergo gli scrisse e gli disse ma scriveva un militare perché Pergo pensava che potessero essere russi no? la risposta è vai avanti molto divertente dice quello che mi interessa no cioè non do neanche non so neanche a discutere sulla natura reale di questi oggetti che accetto assolutamente quello che mi interessa sono i reali contatti avvenuti fra esseri umani e gli occupanti di questi mezzi extraterrestri lo scrive Lord Dowling nel 59 abbiate pazienza andiamo avanti e oggi come funziona? eh funziona che il pentagono addirittura ha con un professore universitario che si chiama Paul Springer varato un grottesco programmino di difesa da possibili invasioni aliene che tra l'altro si fonda su questo testo un'introduzione a una difesa planetaria praticamente le tecniche di difesa sono le stesse condotte dalla guerriglia di Etcong contro gli occupanti americani pari pari geniale ecco ma la cosa interessante è che si tende andiamo qui davanti da parte degli americani questo è Paul Springer in posizione di questione vai vai si tende ecco si tende a accreditare l'idea che se ci sono gli UFO e se ci sono gli alieni devono essere brutti cattivi mostruosi ostili e pericolosi e soprattutto che gli Stati Uniti sono in grado di difendere tutti e naturalmente di risolvere qualunque problema abbiate pazienza ma ci vuole molto a capire che se domattina si sapesse che davvero vanno e vengono ai nostri cieli mezzi extraterrestri che probabilmente vengono dalle stelle e quindi hanno una capacità tecnologica da paura ma voi lo capite anche per il fatto che questa gente non ci ha mai conquistato non ha mai fatto nessuna guerra dei mondi e roba di genere ma voi lo capite che la gente guarderebbe a questi nuovi venuti piuttosto che a qualunque leader da strapazzo e questo vuol dire che gli Stati Uniti cesserebbero di esistere come leadership planetaria diventerebbero una delle normali nazioni del mondo uguali a tutte le altre questo al pentagono lo sanno ed è per questo che continuano come ostriche a negare tutto perché hanno una paura blu che questo avvenne naturalmente il fenomeno però è addirittura ben anteriore anche ai fai fascisti guardate qui per esempio qui siamo Palazzo Vecchio la madonna del disco volante la chiamano alla NASA perché vengono dalla NASA questo è la madonna di San Giovannino che fa vedere con tanto di pastore che guarda in alto e un cane che vaia un oggetto che ha tutte le caratteristiche di unfo di oggi sarà il caso andiamo avanti e naturalmente andando indietro nel tempo troviamo il libro dei prodigi di Giulio Seguente che descrive assolutamente in maniera minuziosa i fenomeni di unfo di oggi li chiama ovviamente clipeia dentes studi infuocati travi in fuoco tutto quello che volete però ci sono e sono lì duemila anni fa andiamo avanti e addirittura nei Vega e in altri testi in Loo troviamo i mitici Vimana che sono i carni celesti dei Deva gli dei dell'India protostorica dono ai loro primi re e sono mezzi che vengono descritti tecnologicamente di maniera minuziosa sono carri volanti fatti di metallo e di altri mezzi e di altri materiali di questo tipo ma soprattutto sono mezzi armati che sono in grado addirittura di combattere delle battaglie celesti tant'è vero che viene detto per esempio nei dettagli che hanno anteriormente un arco circolare che non è altro in una parabola né più né meno l'occhio di capila che concentra il potere distruttivo del sole in un unico raggio fine che raggiunge nello spazio il Vimana avversario incenerentolo ragazzi la non solo ma c'è la vedete ci sono quattro tipi di Vimana vengono descritti quattro tipi tra cui il grande Shakuna Vimana quello che voi vedete sotto campanulare ha tre punti no? ma la cosa più divertente è quello di sopra il Rukma Vimana che è affibio procede in acqua come bufo di oggi andiamo avanti allora naturalmente a questo punto c'è da farsi qualche domandina e qui andiamo un tantinellino anche nel campo che ha toccato Mauro Vindino prima no? l'antico del sabito signori l'antico del sabito attenzione scordatevi per un momento i concetti peligrosi è un libro storico a tutti gli effetti c'è stato un autore Werner Keller che nel dopoguerra ha scritto un bellissimo libro intitolato La Bibbia aveva ragione e fa una lunga serie di esempi dicendo guardate che le informazioni che il testo vedero testamentale porta sono tutte corrette è vero allora immaginatevi che Moshe Ghaian ha vinto una battaglia contro gli eserci di armi leggendosi la Bibbia l'antico testamento la notte prima che descriveva un sentiero no? in maniera riduziosa che i soldati israeliani hanno usato per prendere alle spalle gli armi pensate un po' quindi vedete quanto è corretto e esatto il testo bene la descrizione che noi vediamo per esempio nel libro di Ezequiele Ezequiele che scrive una teofania una manifestazione divina apparente questa è la manifestazione divina è la discesa del carro di Dio la Mercavà o la Shetina che vi si voglia la quale viene descritta come un cerchio una ruota anzi con all'interno un'altra ruota piena d'occhi tutti intorno con una cupola trasparente dove dentro si vede Dio questo aggeggio fra fiamme e fuoco scende davanti al profeta poi descendono quattro esseri in forma d'uomo che sarebbero quattro angeli o messaggeri i quali danno la rivelazione al profeta signori tenete presente vai avanti che c'è stato un tecnico della NASA l'ingegnere blumlish che ha ricostruito la macchina di Ezechiele dicendo ma signori questo è un veicolo tecnologico eccolo qua andiamo avanti allora tutti parlano di una gran guerra nel cielo che sarebbe stata combattuta fra opposte schiere angeliche allora ve lo ha detto già a suo tempo Mauro io non ripeto nulla ma devo dire una cosa le cose che lui ha detto io le ho già scritte dagli anni 60 ma con una differenza importantissima io le ho scritte come uno studioso di queste cose mentre lui oggi ci dà una conferma di tipo diverso perché di tipo lessicale di tipo glottologico soprattutto di tipo linguistico cioè lui è un traduttore dall'ebraico quindi la sua il suo peso è enorme rispetto a quello che può essere un'intuizione una comparazione anche brillante anche interessante che possiamo avere fatto in passato tenete presente che il primo a vedere degli esseri extraterrestri della Bibbia è stato nel 1955 un americano uno studioso americano che si chiamava Boris Jessup che ha scritto un libro intitolato Il UFO della Bibbia poi sono venuti altri autori che ne hanno parlato quindi non c'è niente di nuovo da questo punto di vista ma una cosa è teorizzare e una cosa è tradurre ecco allora se andiamo a guardare tenete presente che intanto ne abbiamo già parlato oggi il concetto di angeli dovrebbe forse essere guardato con maggiore attenzione intanto angelo cosa vuol dire? non vuol dire assolutamente nulla angelo deriva dal greco angeros che vuol dire semplicemente inviato messaggero e nullato e corrisponde come traduzione a quello che troviamo nell'ebraico e nell'ebraico si dice maleak e si scrive dal momento che l'ebraico non ha vocali mlk a rovescio no? perché l'ebraico si legge al contrario rispetto a quello che diciamo voi mlk però attenzione se questa stessa parola che si scrive così noi la leggiamo foneticamente in maniera differente cioè melek melek vuol dire re quindi in altri termini si dovrebbe poter concludere che gli angeli sarebbero stati i primi re delle artiche popolazioni mesopotali cosa dice l'antico testamento l'antico testamento parla dei beneroim che sono gli angeli che si uniscono carnalmente alle figlie della discendenza di Adamo e così queste producono generano una razza di alta statura i nefilim i caduti i quali diventano i primi re delle popolazioni del Medio Oriente benissimo quindi questo è interessante se ne riparla in altri testi libro di Enoch di Enoch di Giubilei testi pseudoepidrafi ma non meno importanti l'altro caso ne parla già da Genes non solo ne parla anche Giuseppe Flavio Giuseppe Flavio che era un ebreo sapevi chi è? forse no allora lo dico per chi non lo sapesse Giuseppe Flavio è stato fra i difensori di Gerusalemme nel 70 d.C. contro le truppe romane che chiaramente assediavano la città poi ero a finire come sapete Gerusalemme fu presa l'assalto fu bruciata il tempio fu distrutto e profanato e ci fu la diaspora lo sapete tutti bene Giuseppe Flavio era nobile ricco sapeva il greco il latino ovviamente il grafico e partecipò alla difesa della città fu preso prigioniero dai umani dal momento che aveva queste caratteristiche non lo passarono per le albi perché ritennero che poteva seguire e lo usarono come traduttore come interpretore eccetera poi ebbe la grande fortuna di entrare nelle simpatie di chi aveva organizzato la spedizione cioè Tito e Spasiano no? e questi alla fine lo adottarono da te vero che lui si chiama Giuseppe Flavio perché poi ha finito i suoi giorni a Roma un cittadino romano come membro di Angers Flavio e ha scritto due libri importanti uno è le attività giudaiche e l'altro è il rego giudaico ci sono due cose interessanti da dire su queste due opere uno che si ricollega a quello che dicevamo prima delle attività giudaiche lui dice espressamente che tutti sanno in Israele che gli angeli figli del cielo copularono con le figlie della discendenza di Ramo e generavano una schiatta di alta statura che sono gli eroi dell'attività e si dice di costoro che abbiano fatto quel che i greci dicono aver fatto in Italia e guardate questa è una cosa bellissima perché un uomo colto del suo tempo fa un parallelo culturale fra la cultura ebraica e la cultura erelistica dicendo che si tratta della stessa roba le cose che vi ha detto stamattina Mauro più o meno sono la stessa cosa l'altra cosa interessante è il demello giudaico Giuseppe Flavio era fra quelli che hanno visto cosa succedeva lui dice che negli ultimi giorni prima che Gerusalemme cadesse avvennero dei prodigi e ne narra alcuni uno è una cosa simile a una spada luminosa nel cielo che durò vari giorni quindi non era un fenomeno normale ovviamente perché se fosse stato un fenomeno semplice si sarebbe trovato l'altra cosa è che si videro come delle falange armate qualcosa di simile a falange armate spostarsi nel cielo e anche questo è molto curioso questo che era una cosa di una apparentemente non di una e poi la cosa più sconcertante è che lui dice che si sentì una possente voce dal cielo che diceva popolo israele noi ce ne andiamo da qui noi chi è come se la tutela angelica fosse finita tanto per se chiama andiamo avanti quindi ecco la rappresentazione degli angeli con le ali è di generazione greca guardate qua siamo noi che gli abbiamo incollato le ali sulla schiena perché venivano dal cielo ma vengono sempre riscritti come uomini come noi la cosa interessante è che comunque nell'apocalisse di san Giovanni si parla della grande guerra nel cielo in cui gli angeli buoni sconfiggono gli angeli cattivi che vengono segregati e isolati sulla terra come in un bagno penale tant'è vero che satana o meglio i satana perché è un nome murale viene chiamato il principe di questo mondo non per caso andiamo avanti e questa è una raffigurazione dell'unione fra appunto gli angeli caduti e le donne andiamo avanti pure ecco ma guardate che non me lo dico solo io questo Monsignor Basti sei mesi fa uno scienziato oltre che in abito talare aerospaziale ha dichiarato pubblicamente in tv che nel sesto capitolo della Genesi la descrizione dei nefilim dei ben Elohim questa roba qui potrebbe forse ricollegarsi a entità extraterrestri vi pare poco? andiamo avanti poi ci sono fenomeni che sono stati in passato rappresentati in un certo modo ma non ho detto che lo siano Fatima la Madonna che appare si forse ma attenzione ci sono dei fenomeni reali materiali dietro i fenomeni di Fatima l'ultima apparizione 75.000 astanti che aspettano sotto pioggia battente l'arrivo del carro celeste della Madonna come i bambini reggenti hanno detto e finalmente il fenomeno succede e in concorbitanza con questo c'è il cosiddetto fenomeno del sole rotante sempre che il sole fosse quindi credo che il sole vuoti allora la cosa sconcertante non è tanto questa perché uno potrebbe dire vabbè sarà un'illusione ottica no la cosa sconcertante è che 75.000 persone sono state di colpo asciugate da un minuto all'altro dall'azione calorifica di qualcosa che stava su di loro e questa è la foto non solo della gente la precedente scusa fa vedere ecco si vede appena quei punti eccolo qua questa è la foto sullo segretore romano che mossa il fenomeno di Fatima ripreso così perché è quel punto di luce non si sa il carro della Madonna vabbè sarà andiamo avanti vai pure avanti ecco questa che cos'è sapete cos'è è la raffigurazione iniziale della Madonna come è stata disegnata dai bambini guardatevela bene è efebrica ha una cuffietta non il velo addosso c'ha una mantellina così curiosa e c'ha una sfera luminosa in mano che non è il sacro cuore di Gesù trafitto da pugnale come poi l'icolografia cattolica ha fatto in un portodallo mecevrale capite? qui siamo in presenza di qualcos'altro ecco perché ci sono autori in portogallo che hanno scritto libri come Intervenção extraterrestre in Fatima intervento extraterrestre in Fatima andiamo avanti lo sapevate che il Papa ha forse visto un UFO? questa è una tavola del 52 questo è più duodecimo che dai giardini vaticani ecco lì vede un misterioso fenomeno che viene omologato nella didascalia come qualcosa di molto simile al sole danzante di Fatima non lo so tirate un po' voi le conclusioni andiamo avanti Giovanni 23 anche lui ha detto la sua ha detto in un discorso potremmo un giorno sentire voci dall'alto che prima non conoscevamo ma sicuramente parlando dei astronauti ma parlando anche della vita extraterrestre ma sicuramente sono voci che sono il riflesso del Padre Divino andiamo avanti e l'attuale Pontefice questa l'ha fatta una delle sue poco più di un anno fa in una pubblica riunione con i giornalisti ha detto la Chiesa non si può sottrarre a nulla infatti se per esempio una delegazione di marziani arrivasse da noi e tutti l'hanno guardato in ebediti ma cosa sta dicendo lui ha sorriso e ha detto i marziani no? quelli che i bambini immaginano verdi con le antenne venisse da noi e ci dicesse vogliamo il battesimo cosa male potrebbe fare la Chiesa e si è fermato qui non ha dato risposte ha posto un interrogativo poi sedicenti vaticanologi hanno cercato di arrampicarsi sugli spetti dicendo ma cosa ha voluto dire c'è stata addirittura chi ha cercato di dire che forse parlava dei gay lasciamo per andiamo avanti tenete presente che sei mesi dopo che il Papa ha detto questo padre vuoi con solmanno questo qua che voi vedete a destra ha scritto un libro intitolato could you baptize un extraterrestre battezzeresti un extraterrestre e l'ha presentato alla NASA perché questo uomo fa parte della specula vaticana ed è il nuovo direttore della specula vaticana da dieci giorni questo è la cilicina sulla tonta la casa editrice è la morcelliana è come se l'avesse pubblicato il Vaticano praticamente questo è un libro di teologia del teologo tedesco Armin Kreiner il titolo è Gesù gli UFO e gli alieni leggetemelo guardate lo devo guardare è molto interessante guardate che se volete la mia opinione che può essere giusta o sbagliata ho la nettissima sensazione che la Chiesa si stia preparando a rivogare al mondo la teoria del Cristo Cosmico che vuol dire? vuol dire che potrebbe essere venduta l'idea che la seconda persona della Santissima Trinità potrebbe essere in grado di manifestarsi come vuole nell'universo sotto qualunque forma se e quando necessario quindi potrebbe avere assunto la forma umana con Gesù Cristo ma potrebbe anche essere un extraterrestre capite? e se ci leggero a dire questo capite che a quel punto il giochino è fatto andiamo avanti o naturalmente c'era anche chi aveva già detto la sua ben tanto tempo fa negli anni 50 Herman Hobert il padre dell'astronautico morto a 95 anni mi ha anche fatto una prefazione ce l'ha fatta la prefazione era uno dei miei libri ci siamo conosciuti aveva detto chiaramente noi ci troviamo oggi a visite da parte di essere extraterrestri alla nostra terra in quelle che oggi noi chiamiamo gli schiulanti UFO andiamo avanti ho le entità allora va bene il problema dell'UFO ma la gente non vede solo l'UFO vede anche l'UFO al suolo e accanto all'UFO registra la presenza di quelle che il professor Heineck per non sbagliarsi molto scientificamente chiamava entità animate che vuol dire tutto e non vuol dire niente allora comunque sia la gente cosa vede vede varie tipologie di esseri comunque con testa tronco braccia e gambe e la cosa sconcertante le più ricorrenti sono queste no? gli esseri piccolini glabri calmi macrocefali con grandi occhi esili della corporatura di un metro e venti un metro e trenta quella di un uomo un ragazzino un essere assolutamente identico a noi non dissimile dall'homo sapiens con qualche piccola variazione di vario genere ma indistinguibile e esseri di altro genere per esempio questo qua peloso che però discende da una macchina tecnologica e poi ci sono anche esseri di alta statura ci sono 4-5 tipologie i più ricorrenti sono queste abbiate pazienza è mai possibile che gente che non si conosce in tutto il mondo concorre a tutta nel limitare questa roba andiamo avanti ah vabbè queste sono citazioni accademiche del nostro lavoro interessante ma non le lascio fare vabbè ecco o naturalmente voi capite che anche le riviste autorevoli come per esempio nel mondo diplomatico non passano sotto silenzio il problema perché il problema è importante ma se domani noi ci abbiamo degli extraterrestri creativo ma qui ci cambia tutto come dobbiamo vedere la cosa andiamo avanti ecco allora di interessante c'è una cosa allora la cosa che più sconcenta è che da questi mezzi possano discendere esseri non dissimili da noi perché abbiate pazienza è impensabile o quasi che su mondi distantissimi fra loro si sia sviluppato in maniera parallela identica il fenomeno vita esattamente e qui è da uguale no no la spiegazione può essere un'altra e cioè che c'è una origine e probabilmente un DNA comune fra noi e loro e se è vera la storiellina che dicevamo prima perché scusate se gli angeli hanno popolato con le donne in passato vuol dire che queste erano geneticamente compatibili perché se no non facevano figli no allora se davvero abbiamo un DNA comune perché dovremmo meravigliarci dei cosiddetti nordici che sarebbero una tipologia di essere extraterrestri visti da tante persone questo andiamo avanti oppure ah beh questo è divertente questo è un fatto personale ve lo racconto perché adesso è un po' fuori sacco ma è una cosa divertente nel 78 tutti hanno visto gli UFO quasi ripeto oltre 2000 la segnalazione e capitanno anche a me a me e ad altre 10 persone che abbiamo assistito per tre ore in prossimità di Perugia a uno show vero e proprio di una dozzina di questi oggetti che si sono spostati tranquillamente in tutte le stazioni possibili l'abbiamo anche fotografato guardate lì c'è la fotografia che è servita più che altro a noi per capire che non sognavamo ma la cosa divertente è un'altra la cosa divertente è che poi successivamente qualcuno ha fatto un esperimento teso a evocare l'UFO nel senso che ha riunito 200 persone 200 studenti dell'università di Perugia per stranieri gli ha portati sul collo del cardinale fuori Perugia e gli ha detto mettetevi a sedere fate una catena tenetevi per mano sgombrate la mente da tutti i pensieri e pensate che avreste piacere di vedere l'UFO sapete cosa è successo? allora questo esperimento ha avuto anche fra i testimoni due giornalisti un giornalista dell'immunità e un giornalista della nazione di Firenze che erano venuti per fare un pezzo di colore e fare a pezzi ovviamente questi pazzi che si riunono per questo ridicolo esperimento sapete cosa è successo? che in 300 l'altra sera all'appuntamento dell'UFO mi fai più piccolo? il titolo è se si legge torna normale ecco incontri avvicinati con 20 puntini blu perché gli UFO sono venuti sul serio? non mi chiedete perché però c'è tanta gente che dice che i piloti del UFO sono telepatici e quindi hanno la capacità di veicolare pensieri di captare pensieri sarà un caso andiamo avanti e io non so se questi signori sono in questo modo sarebbe molto bello l'indiraco però andiamo avanti una cosa è certa allora c'è una grande coincidenza di presenze di UFO su zone militari installazioni atomiche e addirittura siti di lancio di missili balistici tutto il continentale qui c'è una foto che mi fa vedere uno ma andiamo avanti questo ex militare americano comandava la base di Maelstrom nel Montana lui si è visto un UFO svolvolare la base rimanere sulla base in convente e tutto è andato a carte 48 tutto il sistema di lancio è saltato e questo missile i missili balistici intercontinentali che è stato in curare sono stati resi inoffensivi andiamo avanti le formazioni di UFO sono di varie forme anche questa a croce ma andiamo avanti pure vi devo raccontare qualcosa di importante il corso del Perigo nel 54 a Roma fu diretto testimone dell'apparizione di quegli oggetti che avete visto prima 40 di questi oggetti nel cielo di Roma esattamente su San Pietro ci è rimasto sconvolto in un primo momento pensava fossero rossi come dicevo poi si rese conto che non era così e rimase ancora più sconcertato il giorno dopo andiamo avanti succede un'altra cosa tre formazioni di UFO passano e addirittura sono rilevate dal radar sull'inghilterra meridionale una formazione è a ferro di cavallo una seconda formazione è fatta da due parallele e la terza è una scherzata pergo solo dopo si chiede ma santo benedetto Dio ma è mai possibile che questa gente si diverta a fare delle formazioni che possono essere viste da tutti su Roma su San Pietro a croce greca che è il simbolo non solo del cristianesimo ma della croce rossa internazionale come può essere due coincidenze e poi qualcuno gli dice ma scusa un attimo ferro di cavallo no è una U e che cosa è la U? è il simbolo chimico dell'Urano vuol dire bombe atomiche e cosa vuol dire una parallela matematica vuol dire uguale e la terza Z è l'ultima lettera dell'alfabeto che vuol dire fine allora questi potrebbero essere come dire dei mezzi simbolici per dire che questa gente non è affatto a favore degli armamenti nucleari e questo è già venuto fuori più di una volta andiamo avanti poi un'altra storiella sono appunto i cosiddetti grigi questi esserini piccolini che spesso sono coinvolti apparentemente nei casi di abduction non sono molto simpatici né carini c'è addirittura chi si chiede se sono effettivamente esseri vivi perché qualcuno pensa che siano degli esseri clonati primi di sistema digerente e riproduttivo primi di ano primi ovviamente anche di stomaco perché sarebbero dei cloni biologici fatti esclusivamente per guidare gli UFO in maniera che se c'è un incidente diventano dei vuoti a perdere non muore nessuno non lo sappiamo però molta gente li segnala e concorre nel segnalare questi esseri fatti così poi c'è e qui caschiamo veramente nel frittempo come si può dirsi vai avanti ah beh naturalmente è chiaro che i grigi che rapiscono gli esseri umani vengono visti con sospetto e quant'altro lo capite andiamo avanti ecco poi ci sono i rettiliani i rettiliani scusate sono un mito assolutamente infondato che in ufologia non trova riscontro con nessuna casistica su internet la ritrovate abbondantemente chi vuole far calzare determinate descrizioni sulla tipologia dei grigi purtroppo qui casca l'asino non esiste non regge queste creature non ci sono sono soltanto state prodotte dalla saga The Visitors e basta e anche da Elena ma niente di che questa roba non è mai stata vista è un mito che gli ameritari hanno interesse a mantenere e a diffondere perché così sono brutti diversi cattivi pericolosi andiamo avanti poi ci sono addirittura anche altre cose da dire allora quando tu ti trovi davanti come questo famosissimo e clamoroso caso di un pastore agricano missionario in Pacua Nuova Guinea con il disegnino fatto dai nativi pensate un pochino che sono non influenzabili dalla nostra civiltà e noi vediamo uno di questi oggetti non diverso dai soliti con gli occupanti che salutano e si sbracciano per salutare gli astanti sotto ma cosa dobbiamo pensare che ci sono i rettiliani ma per cortesia andiamo avanti poi ci sono i segni lasciati da questi oggetti non solo i segni frutto della loro discesa e questi sono di conti avvicinati del secondo tipo no? cioè le tracce chimiche fisiche quello è un altro discorso ma tracce lasciate a bella posta per esempio si parla spesso di cerchile grano ma guardate che queste formazioni non si formano soltanto nei campi di cereali si formano anche nella neve nel ghiaccio questo è in Russia per esempio la tecnica è la stessa andiamo avanti e qui siamo in l'Ugiterra invece questo per esempio è impossibile da fare qualunque circle maker non avrebbe mai voluto farlo nel tempo in cui è saltato fuori e lo sanno anche loro e allora chi li fa? andiamo avanti poi abbiamo addirittura i messaggi curiosi tipo per esempio questo dove addirittura andiamo avanti presso questo radiotelescopio salta fuori salta fuori due formazioni questa specie di volto umanoide questo è un cerchio olegrano è un disegno olegrano e la successiva fa vedere addirittura questa sapete cos'è questo? questo è il cosiddetto messaggio di Arecibo è l'ultima cosa che il SETI ha spedito nello spazio nel 74 è la il bidetto della visita della razza umana 70 scusate dove nel 2000 nel 2000 comunque è stato all'attività nel 74 nel 2004 se non ho avuto si c'è la risposta no? e la risposta è questa qua e è assolutamente pazzesco perché ci sono tutti gli elementi di possibile risposta guardate che è semplicemente stato definito impossibile che questa roba sia stata realizzata da esseri umani su questo non c'è dubbio e allora cosa vuol dire? guardate che gli scienziati spesso dicono ah bello ma se fosse così sarebbe troppo bello per essere lì comunque questa roba c'è andiamo avanti vedete qui c'è la comparazione tra il nostro messaggio che è a destra e quello ricevuto che è a sinistra ci sono delle piccole differenze su per esempio il loro sistema solare su il loro DNA e altre cose andiamo avanti e poi c'è anche questo analogo addirittura con questo volto no? allora è chiaro che se noi ammettiamo che i cerchi nel grano possano anche essere messaggi di questo tipo guardate che c'è da fare una considerazione a differenza delle fotografie che possono essere indicate come false a differenza delle testimonianze che si può dire sì va bene ma chissà ti hai visto i cerchi nel grano restano lì per giorni ci sono migliaia di persone che le vanno a vedere sono altamente evocativi e convincono più di chiunque altro andiamo avanti poi un'altra cosa ma i grandi della terra come la mettono? ma guardate questa è Erika Clinton con Lawrence Lorkman Feller sono stati fotografati così guardate lei ha in mano un libro andiamo avanti questo libro è stato in grande intervisto sapete che libro è? è questo fai vedere la successiva vai c'è addirittura il codice a barre è il libro siamo soli di Paul Davis grande fisico che si occupa di la terra quindi capite che è vero che Carter Reagan Clinton queste cose le conoscono benissimo solo che sono prigionieri di un meccanismo e non possono parlare andiamo avanti sapete chi è questo? Bush sello sapete cosa ha detto venti giorni fa? non lo sapete sapete perché? perché una notizia non diffusa diventa una notizia andatevelo a vedere su internet perché anche se non ne hanno parlato i giornali e i tv e la televisione è importantissimo allora lui ha partecipato venti giorni fa a una manifestazione elettorale per sostenere l'elezione dell'altro figlio il figlio scemo come qualcuno dice cioè il genere di Bush bene? sì quello più furbo allora chiaramente un giornalista gli ha detto ah presidente lei è qui chiaramente per il sossegno al suo figlio interessante ma senta visto che tanto si chiede sempre ai candidati alla presidenza una domanda di questo genere della serie se viene letto il discorso dell'UFO come la mettiamo? lei cosa dice? sapete che mi ha risposto Bush il segno che è stato capo della CIA lo sapete questo? ecco è stato capo della CIA lui ha risposto you see the United States can't handle through a bound with a force tradizione vedete gli Stati Uniti non possono gestire la verità sugli UFO che vuol dire intanto che esiste una verità sugli UFO tanto per cominciare e che quindi quello che si sa non è la verità o tutta la verità se non lo non sarebbe la verità e due vuol dire anche che gli Stati Uniti da soli non possono gestire la verità sugli UFO quindi bisogna anche capire quello che la gente dice poi se siamo come siamo in presenza di giornalisti io ho la tessera di giornalisti da 40 anni che non sono tali ma sono dei cialtroni che non fanno il loro lavoro questo è un altro discorso andiamo a Edgar Mitchell va in giro per il mondo a dire che la NASA sa tutto sugli UFO che siamo visitati da essere extraterrestri ma che in nome della ragione di Stato il governo usa sta zitto vi devo dire che ho provato sulla mia pelle qualche cosa del genere due anni fa abbiamo provato a invitare Mitchell a San Marino non è comodissimo di invitare un astronauta anche perché Mitchell fa parte di 11 che hanno calcato il suolo nella luna 11 perché Armstrong è morto per qualche tempo fa se no sarebbero stati 12 chiaramente chi fa parte di questo ristrettissimo nucleo di persone anche la NASA ha comporso a questo diciamo che ha un gettone di presenza nel senso che se viene invitato si può anche dire di si non è detto può anche dire di si però gli devi pagare quel quid che guai se non lo paghi perché se anche uno ti fa lo sconto e gli altri ti lo vengono a sapere di mangiare lo faccio capito? l'abbiamo contattato era disponibilissimo a venire a San Marino anzi ci veniva incontro ha detto guardate non lo vede per carità di Dio io capisco che è un momentaccio guardate il mio il mio figlio il mio gettone di presenza rinunciamolo a questo punto quindi più carino di così non poteva troviamo lo sponsor parlo con l'amministratore delegato dell'importante ditta aerospaziale di Torino entusiasta che bello facciamo venire vincenzi eccetera eccetera bene tutto bello prendiamo contatto eccetera eccetera all'ultimo momento questo qua mi telefona mi dice dottore guarda io non so da che parte di cominciare ma vede lei capisce le devo dire noi lavoriamo con l'ASI l'agenzia spaziale italiana e l'ASI lavora con la NASA ovviamente e allora senta io ho avuto una informale telefonata dall'ASI che mi hanno detto che gli è stato detto che nessuno ha piacere che venga qui in Italia una persona che dice quello che dice vincere quindi abbia pazienza io vi devo ritirare il borgoglio grazie poi abbiamo fatto venire la forma di poter l'ASI capite che questo la dice lunga su come stanno le cose andiamo avanti vedete che gli assonauti vedono l'UFO questo è uno delle tante immagini orbitali andiamo avanti poi la Luna che bello il conquista della Luna non ci sono più ritornati ma scusate scusate ma vi rendete conto che la Luna è di qualcun altro? ve lo devo dire io? no questa è una pubblicazione NASA NASA divulgata nel 67 è stata fatta per gli astronauti che dovranno sbarcare sulla Luna ci sono quasi 600 eventi denominati come vedete anomalie lunari o se preferite dei fenomeni lunari transitori o transeuti cosa sono? sono oggetti che si spostano sul fondo dei crateri visti non da gente comune astronomi o astrofili che comunque è gente qualificata allora questo catalogo ci dice che sulla Luna c'è l'attività di qualcos'altro va bene? mettiamo la cosa e quindi le voci che dicono che quando c'è stato lo sbarco sulla Luna qualcuno è poi tornato con la coda fra le gambe e che quindi nessuno poi ci ha più ritornato perché tanto era inutile non è poi così oggi andiamo avanti come mai gli italiani francesi? perché c'è questa edizione francese si si niente di che ma è giusta no c'è anche l'edizione americana andiamo avanti ecco queste sono per esempio banali immagini di stranezze ronare vedete questi oggetti assolutamente curiosi doppi uguali strani che si va di tutti andiamo un attimo le successive ci dovrebbe essere qualcosa altro no no però è solo per dare un'immagine un'impressione del fatto che questo catalogo si va da oggetti a cuspide a oggetti a cupola da oggetti che manifestano cioè da oggetti da tracce di trascinamento che rimangono sul fondo dei crateri a oggetti luminosi che si spostano in zone buie da luci che si accendono di colpo e si spengono di colpo e chi più ne ha più ne metta quindi capite che non è così solito un'altra cosa a questo ha fatto nascere anche una legittima come dire un legittimo interrogativo ma se tra l'altro almeno alcuni dei piloti degli UFO non sono poi così dissimili da noi ma vi rendete conto che questa gente potrebbe anche essere in mezzo a noi perché è così andiamo avanti sì va bene andiamo avanti vedete il Vaticano potrebbe dire qualche cosa di importante andiamo avanti allora il discorso del contatto evidentemente è importante per tutti è importante per tutti perché fa porre il problema in un'ottica che ci investe tutti quanti siamo tutti sullo stesso piano non c'è più governante e governati siamo tutti di fronte allo stesso problema siamo stessi tutti sul stesso piano andiamo avanti e quando noi ci troviamo di fronte per esempio a immagini come queste queste sfere di luce viste a centinaia per esempio nell'America Latina andiamo avanti ancora vedete guardate che roba andiamo avanti ancora oppure questa sapete questa quando è stata ripresa il giorno dell'elezione di Papa Francesco questo non è che ve lo dico perché è venuta fuori tranquillamente su internet è stata indicata come tale lufo di Papa Francesco l'hanno chiamato andiamo avanti tanto è vero che ci sono riviste internazionali una tedesca che ha detto il segreto del Vaticano sull'ufo il Vaticano si accinge a parlare eccetera 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 andiamo avanti pure basta ci fermiamo se accendiamo un po' di luce ecco allora intanto che ora abbiamo fatto vediamo un po' perché non voglio tegliarvi sono le no sono le quattro e mezza c'è ancora ecco allora vediamo pure l'uomo allora no vorrei dire questo una cosa interessante da dire è che di fatto non c'è bisogno di dirlo il Vaticano sta scippando in maniera abbastanza evidente il pensiero di Giordano Bruno Giordano Bruno poveretto che è stato bruciato sul luogo dalla santa archituzione diceva nel suo libro Vedi infinito universo et mondi nel 1600 che gli altri pregetti sono certamente abitati e che nell'universo ci sono creature che stanno a luogo come l'uomo stagli animali ovvio che una simile affermazione nel 1600 andavi su luogo direttissima è successo però vedete Galileo ha avuto un trattamento non uguale ma insomma quasi simile no? non l'hanno bruciato anche perché lui ha calato la testa ha detto si si poi va bene avrebbe detto che più si muove però ci teneva la pena quindi va bene ma insomma ha lasciato perdere Bruno Bruno è stato tutto in un pezzo e quindi poi è finito sul corpo poi c'è un fatto oggi la chiesa Galileo può adeguare perché non è successo nulla alla fine no? Bruno no per quello che l'ha ammazzato secondariamente perché quello che l'ha fatto ammazzare chi è? è il cardinale Roberto dell'Armino santo come fai a dire che un santo di santa romana chiesa è un coglione non può e quindi è dura la cosa però è incredibile ma di fatto vedete che la chiesa prima dicevo sta scippando sta di fatto dicendo oggi le stesse identiche cose che diceva Giordano Bruno a riguardo questo non è casuale aggiungo una cosa l'attuale punto dice che poveretto ha i suoi grossi problemi perché tutti sanno che ovviamente c'è una lotta sorda fra una curia corrotta allo stremo no? che lo ucciderebbe come sono stati uccisi altri papi se potesse non è un caso che Papa Francesco va a mangiare a Santa Marta col vassoio con altri quattrocento commensali no? ecco allora capitemi bene lo scontro è questo però è anche vero che quest'uomo non solo ha detto quello che ha detto e che prima abbiamo ricordato ma è un gesuita viene dall'Argentina lui scherzando ha detto vengo dal figlio del mondo no? e guardate che in Argentina lui di queste cose era informato sapete perché? un gesuita argentino suo confraterno padre Segurdo Benito Reina dirigeva negli anni 60 quando lui era lì l'osservatore astronomico di Adara fuori Buenos Aires ed è un gesuita astronomo che ha fotografato è stato intervistato dopo finito sui giornali gli UFO da lì attraverso il suo telescopio papa del mondo questo lo sa se questo aggiungete che risulta che fra le sue conoscenze conoscenze guardate bene c'è anche un tizio un certo Pedro Romaniuk che ha scritto in Argentina due libri divulgativi su UFO sarà un'altra coincidenza allora capite bene che quest'uomo sta dicendo anche troppe cose poveraccio no? quindi non bisogna tirargli la giacca però mi capite bene anche il fatto che padre Fux dopo aver detto quello che ha detto no? allo studatore romano adesso sia stato avvicinato da Monsignor Consul Magno spencola Vaticano quello che ha scritto in libro Pattenzereste subito dopo che lui l'ha detto ma guarda un po' e padre Consul Magno non è una strana normale è un cittadino americano bello atletico si presenta bene in America ma in tv è ospite d'onore a molte trasmissioni piace tanto no? sa intrattenere il pubblico è un uomo che sa gestire con i media guarda un po' lo fa lo mette a capo e lo spegno alla vita saranno tutte coincidenze io non lo so io personalmente auguro lunga vita a Paolo Francesco di con l'impressione che se continua così ci dirà altre cose ora torniamo a un'altra considerazione si potrebbe pensare che a questo punto quello che abbiamo detto ci porti a averci c'era con gli americani no ma per carità guardate in America c'è stata sicuramente c'è stato uno sforzo di comprensione di questo fenomeno oltre ogni via purtroppo però l'America non è quella che sembra perché hanno la migliore costituzione del mondo ma voi capite meglio di me che oggi è diventata quasi una dittatura mascherata perché in parte del test ha conto i diritti a qualunque cittadino e in nome così dell'ordine pubblico il governo può fare quello di loro poi aggiungiamo una cosa la sicurezza nazionale è diventata un'info un'info poi gli stati uniti hanno fatto una serie di controlli quindi ci lasciamo per glissiamo su questo no non ci sarebbe l'isis se ovviamente gli americani si fossero comportati però il problema è che oggi evidentemente il discorso di l'ufo è considerato un terremoto una cosa una riattura non si può raccontare alla gente questa roba perché come dicevamo prima gli stati uniti perdirebbero un valore il cibo nessuno vuole farlo assolutamente il presidente Obama ce l'ha avuto John Podesta uno del suo staff che ha detto anche lui un poverino delle cose ha provato a dire delle cose e il giorno dopo lo censurano quindi vedete che la situazione in America è molto dettata intanto il ferrocino di lufo fa parte del top secret e quindi più di tanto non è dato di sapere ma quel che è peggio è che gli stati uniti purtroppo a livello di pubblico sono composti sono composti da persone da cittadini che onestamente in buona fede credono che il loro governo sia il migliore del mondo e faccia il loro bene e abbiate pazienza è un'immagine sciocchezza perché tutti capiscono che non è così ma mica perché noi siamo più intelligenti perché siamo europei abbiate pazienza cioè gli americani si berano ancora delle conclusioni ufficiali del rapporto Warren che dice che il presidente Kennedy è stato ammazzato da un pazzo desolato ma lo sanno tutti che tre tiratori scelti lo hanno impallinato è stato un colpo di stato la famiglia Kennedy dice che il mandante è Johnson oggi va bene poi altre cose va bene signori il rapporto Condon ha liquidato il discorso sugli UFO in maniera invereconda dicendo il contrario di quello che il rapporto dice e ha chiuso il progetto investigativo sugli UFO del progetto Blue Book perché semplicemente era tenuto a dare delle risposte alla gente comune e basta finito basta chiamola lì abbiamo assistito a delle cose assurde il caso Roswell il caso Roswell prima è stato posto ci sono dati ufficiali ah ce l'abbiamo il disco è qui nell'angare eccetera poi arriva il generale Remy in un giorno nega tutto dicendo ah no non è così qui niente strata di un pallone monta una cosa di questo tipo e il discorso finisce signori il diavolo fa le pentole e le ho ricoperti oggi sappiamo benissimo come sono andate le cose sapete perché? perché il generale Remy all'epoca negando il tutto è stato fotografato 50 volte dai giornalisti presenti mentre parlando esibiva così in mano tranquillamente meccanicamente un foglio fortunatamente le immagini che lo riprendono erano fatte con le grandi macchine fotografiche che c'hanno un negativo quadrato a buona risoluzione e allora qualcuno ha detto ma questo cosa c'ha in mano? che c'è a scappare? ma che è sta roba? lo hanno analizzato hanno preso tutti questi documenti e li hanno analizzati con tecnica computerizzata signori sapete cos'è quel foglio? è un foglio inter-scrivente sono gli ordini che ha ricevuto lui ce l'hai in mano? no? ma la cosa divertente è che si leggono due o tre righe perché col computer ne leggi e si parla di disk e di victims vittime ma dico stiamo scherzando la lezione ufficiale è che ho un pallone su una senza pilota cioè capite? allora il popolo americano viene costantemente ingannato dai propri leader e non loro è chiaro che poveretti si ritrovano c'è quello che si merita si ritrovano Bush si ritrovano Obama che scusate gli hanno dato il premio 9 prima ma cosa ha fatto? devo capirlo lasciamo perdere oggi se non c'è è uguale ragazzi qui il problema è che non vi potete aspettare assolutamente che venga una parola chiara su questo tema dagli Stati Uniti perché hanno troppo interesse a occultare e a continuare a occultare qualcosa potrebbe forse venire da altre parti però hanno tutti una gran paura perché ma chi si muove prima anche se qualcuno capisce che chi si muovesse prima anche se sarebbe uno da digerire voi quello che viene fuori beh però qualche minimo vantaggio le potrebbe forse trarre solo che chi si muove per primo chi è che lo fa? bella domanda guardate io mi fermerei un attimo qui e vorrei che eventualmente facessimo un po' di dibattito poi vediamo se resta un po' di tempo io non ho detto tutto perché non si può dire tutto cercando di toccare quanti più argomenti possibili magari qualcuno mi è scappato però vediamo quindi a voi la parola grazie arriva la voce perfettamente volevo chiedere cosa ne pensi quando dice Corrado Malanga sul fatto della perché loro in pratica hanno bisogno della nostra anima si sembrano immortali allora punto la seconda domanda si può dire qualcosa sull'ustica si allora comincio a rovescio ustica non c'entra niente con il bufo chiamano il figlio allora anche se è vero che c'è il passaggio di un oggetto non identificato è a tre ore e mezza quasi quattro ore di distanza dal fatto chiaro ecco i corpi le tracce apparentemente non identificate cui qualcuno ha fatto riferimento durante il fatto di ustica sono solo aeli allora le dico molto sinceramente e tranquillamente come sono andate le cose le ha scritte anche il povero e compianto presidente Rossini quindi non sto dicendo niente di diverso da quello che non abbia poi scritto lui allora le dico questo è molto semplice si voleva eliminare Colmelo Gettafi grandissimo figlio di buona donna siamo d'accordo il quale doveva dare a una riunione a Varsania si sapeva quindi gli americani e i francesi entrano in scena e mettono su un un omicidio un omicidio esatto come? si prendono due MiG si toelettano e si fanno identici a dei MiG vivici dell'aviazione vivica e si fanno decollare e rimanere in volo in zona in attesa che arrivi l'obiettivo questi due MiG vivici non è ben chiaro se sono stati fatti decollare dalla porta aere Clemenceau francese o come qualcuno addirittura dice la pratica di mare non è ben chiaro quello che è certo è che erano in volo tutti e due e che gli italiani hanno fatto finta di non vedere va bene mettiamola semplicemente così per non crearci problemi di intanto beh a questo punto cosa succede succede che uno degli ultimi statisti che abbiamo avuto in Italia indipendentemente da qualunque altra considerazione stiamo parlando di un uomo di Stato che era Craxi informato di cosa stava succedendo ha fatto due conti e ha detto porca miseria se eliminano Gheddafi come lo mettiamo perché domani poi il petrolio gli italiani lì è un casino quindi tutto sommato forse è preferibile che questo gran figlio di buona donna ci resti ancora per un po' ha fatto una valutazione molto terra terra che ha fatto? non ha perso un secondo e ha avvisato Muhammad Gheddafi così il colonnello è tornato indietro e l'atteso verifolo con il colonnello a bordo non c'era più e c'erano tutti pronti c'erano i due miglipici killer pronti c'erano i caccia americani che stavano da andare molto di lontano i caccia francesi che partigliavano la zona perfetto gli italiani che contornavano tutti facevano finta a questo punto contro ordine tutto annullato a come mandi muo a questo punto dice che si fa è niente non c'è più niente quindi diceva i piloti killer guardi piloti killer non ci devono essere testimoni abbatteteli uno è stato abbattuto subito ed è in fondo al tirremo secondo è toccavano che si sparano e che ha fatto c'era l'aereo dell'Italia ci si è cacciato sotto e ha detto non mi possono toccare perché nel momento in cui mi tirassero un missile aria aria evidentemente questo sarà tirato dalla fonte termica maggiore colpirebbe l'aereo passeggeri non lo faranno mai il pilota francese l'ha fatto perché è stato abbattuto con l'aereo dell'Italia dai francesi sia molto chiaro questo va bene detto questo a parte che è stata francese la compagnia di recupero dei rottami ma guarda un po' l'altro MIG che è stato solo danneggiato in questa operazione è andata a cadere qui e hanno ignobilmente falsificato i dati per evitare che coincidesse con la data di Ustica ma è andata così né più né meno e poi dal momento che c'erano troppi testimoni scomodi c'è stato praticamente il massacro di parecchi testimoni che sono stati uccisi liquidati si sono impiccati si sono buttati dalla finestra sono stati colpiti da proietti divaganti nel corso di una rapina sono scivolati hanno sbattuto la testa c'è almeno una quindicina di esempi di questo tipo e poi ci regina sulla torta dovevano deporre due piloti coinvolti che erano due piloti della partita geopatica nazionale ma guarda un po' a Ramstein in Germania si toccano cavano tutti e giù e fanno 90 morti vittime collaterali non importa ma non depongono più signori questa è la realtà nostra vorrei che lo capiste perché il mondo funziona così non c'è nessuna differenza fra austica e kennedy i sistemi sono gli stessi anche perché poi come dire le matrici di certe cose sono molto simili se non identiche questo per rispondere a austica discorso di Valandra per cortesia il dottor Corrado Valandra chimico dell'università di Pisa è stato per vent'anni consulente scientifico per la chimica del nostro centro poi di punto in bianco ha cominciato a occuparsi di abduction senza avere nessuna competenza senza anzi andando contro le leggi della Repubblica che prevedono che chi faccia ipnosi o sia un medico o debba avere un medico presente e lui in spregio a questo l'ha fatto è roba da denuncia penale questo capito? questo soggetto sarebbe da mandare in galera non l'abbiamo fatto unicamente perché ne abbiamo fatto noi un martire è un cialtrone privo completamente di know-how in questo campo che spara gli ozie totali tipo per esempio gli alieni brutti cattivi e mostruosi che sono qui per rapirci l'anima questo scusate va bene come favola per i bambini per cortesia nessuno ci può togliere l'anima lasciamo tutti con l'anima non diciamo gli ozie non è che lei è diverso da me io da lei già fare una domanda del genere abbia pazienza mi sembra quasi surreale no? la risposta è questa di malandra le posso dire il peggio del peggio del peggio lo abbiamo fatto a brandelli a brandelli perché è una persona da fare a brandelli che ha fatto solo il mare di ufologia e addirittura potrebbe essere addirittura una persona che lo fa per un interesse ben preciso perché se vuole vi dico anche di più a Pisa questo ce l'ha detto lui quindi non le sto dicendo niente che lui non l'abbia detto a noi a Pisa lui ha avuto contatti con ufficiali americani della base di Camp Derby che è una grande grandissima caserma americana i quali lo hanno avvicinato per parlare di queste cose qua dopo ma guarda un po' lui ha cambiato completamente atteggiamento ed è diventato quello che è diventato tra l'altro è andato persino ad accusare noi di essere collusi con l'intelligence di vari paesi pensi in poche roba noi che sono 50 anni che ci facciamo in 4 non so per non nascondere nulla a nessuno ma per pubblicare tutto quello che si può quindi una persona così è semplicemente da gettare nel fuoco tutto qui con tutto quello che ha scritto tutto qua io ho lì il proletto sì sì ma è perché giustamente il problema sa lui ha fatto un testo che si chiama no ne ha fatto più un testo che si chiama Alieni o Demoni questa persona non sa distinguere questo è drammatico le pratiche esorcistiche in pratica da i fenomeni di abduction questo è il grosso suo problema perché quando si manca di basi conoscitive di tanti fenomeni non può permettere di modificare tutto qua con la cara di domanda prego dunque volevo farla anche avrò un dubbino che ha citato la storia degli angeli che si accoppiavano ma l'azienda ha risposto a credere come è possibile che sui pianeti lontani si sviluppi si sviluppi lo specie con lo stesso DNA che quindi possono fare le fini che è la definizione biologica di appartenenza alla stessa specie sì dovrebbe essere quindi tra le fini fecondi allora questa è la domanda com'è possibile che gente sviluppata su un'altra pianeta che venga qua ammesso che sia gente di un'altra pianeta che venga siano sessualmente compatibili e possono fare le fini fecondi e pura non essere della stessa specie allora se si fa una teoria nuova questa è la base dell'efficacia la teoria nuova dovrà spiegare fenomeni buoni ma bene spiegare anche quelli certo e deve includere tutti certo allora forse non ci siamo per tutti ma no no un'ultima cosa ma la teoria di Dano quindi noi non discendiamo dalle scimmie ma vediamo la scimmie calma noi abbiamo tutto un patrimonio genetico con le scimmie sono bellissimi ma la teoria deve spiegare in frattempo allora la mia domanda è qualcuno hai lavorato da qualche teoria in grado allora se permette mi provo a rispondere grazie allora il tentativo di risposta che le do e non so se è una risposta perché è una domanda che mi faccio anch'io perché se sapessi la risposta pontificherei no come comunque fosse in grado di fare allora il discorso è questo quando dicevo quello che dicevo lo dicevo perché lei penso sappia che è una delle idee non dico ipotesi è che comunque la vita per quale si è sviluppata qui sulla terra possa in qualche modo essere stata come dire oggetto di manipolazione biogenetica da parte di diciamo entità da fuori che possano a qualche titolo e in qualche modo avere quindi interagito nell'evoluzione sulla terra che ha il suo andamento no sicuramente quando faccio un esempio banale quando per esempio ancora poco tempo fa si diceva che l'evoluzione degli omidi terrestri canonica quindi lasciamo perdere gli alieni no vabbè da alcuni viene indicata come una sorta di mutazione a un certo punto no anche se qualcuno dice natura non faccio il saltus d'accordo beh mi consenta questo però è un modo elegante non neanche poi troppo da parte della scienza per dare una risposta senza dare nessuna risposta perché qua non si parla di mutazione ma chi vuol dire non si sa cioè è un evento imprevedibile inspiegato inspiegabile che comunque fa cambiare cambia le carte sul tavolo va bene allora secondo questi concetti ammesso che siano da accettare c'è chi pensa appunto che diciamo qualcuno da fuori che abbia potuto manipolare biogenicamente dal livello biogenetico alcune specie fra cui anche dei romani quindi non è che noi saremmo totalmente diciamo extraterrestri ma potremmo avere in noi almeno il passo del DNA importato con tutto quel che segue poi non sta a me tecnicamente spaccare il capito 14 dire così sì e cos'è eccetera eccetera però sostanzialmente quando giustamente uno si trova di fronte almeno a livello apparente due cose che sono dannatamente simili sorge questo legittimo interrogativo tutto lì naturalmente non è che io ho una prentesa di dire oh guardate che è così vi dico quello che è abbastanza logico pensare tra l'altro vi dico questo a livello per esempio di tradizioni tanto per fare un esempio banale c'è una vecchia tradizione asiatica che è quella che riguarda la discesa sulla terra del cosiddetto Sanat Kumara è una tradizione asiatica che dice che in un'epoca che corrisponderebbe all'era terziaria tra l'altro quindi ben prima della comparsa di Roma sulla terra arriva sulla terra con i suoi aiutanti una sorta di demiurgo extraterrestre perché viene dallo cielo viene dallo spazio questo essere scende sulla terra in una zona che viene indicata secondo questa tradizione l'isola che un tempo ci sarebbe stata in quello che una volta era il mare nel deserto dei Gobi lì si sarebbe mosso e avrebbe poi svolto tutta una serie di azioni tese proprio a implementare sviluppare intensificare il fenomeno vita sulla terra secondo certe direttrici che evidentemente sapeva lui volva lui no? ecco è come se uno scienziato non pazzo ma diciamo con una capacità diciamo sufficientemente tale da incidere si fosse messo in un buzzo buono a dire aspetta adesso faccio questo o quest'altro questa è una cosa che noi leggiamo addirittura nell'ottocento riportato da visitatori europei di roba a livello di fronte asiatica non è che voglia essere una risposta ma è per dire che questi concetti che ci facciamo noi oggi alla fin fine li potremmo trovare a livello tradizionale anche sotto altra forma ad altre parti tutto qua adesso si voleva aggiungere una cosa che fa al discorso per quanto riguarda il patrimonio genetico umano come penso abbiamo una buona percentuale del nostro patrimonio genetico la DNA è considerata un problema spazzatura e conoscete la percentuale della DNA spazzatura nell'ambulare un essere umano leggermente alta abbiamo un 90% ok più o meno conoscete come gli DNA spazzatura se c'è un'altra specie sul pianeta terra animale ovviamente che ha peculiarità simili c'è DNA spazzatura nel mondo animale? No, è semplicemente una deduzione, non è una teoria, è un punto di riflessione, come anche la cromosomina, la differenza del salto qualitativo dovrebbe essere un'aggiunta cromosomica, in realtà noi ne abbiamo 46, 15, 48, e qual è la teoria che spiega il meccanismo inverso? Se qualcuno ce lo spiega, sarebbe splendido. Grazie. No, no, sono d'accordo. Una piccola, se è della Maria Militaria, vorrei fare un argomento che mi sembra riconosca molto bene, però non ho capito come si è esaurito questo argomento, quello dei W56. Allora, magari non tutti lo conoscono, mi tocca spiegarlo. Allora, questa storia prende le mosse dagli anni 50. Allora, oggi se ne è parlato perché un paio di autori hanno deciso di parlarne. In realtà di questa cosa io personalmente ne sapevo qualcosa già nel 59-60. Però è una cosa che chi si occupava di questa faccenda, veramente pochissime persone saperebbe. Che cosa sarebbe? Sarebbe il fatto che un gruppo di, diciamo, alieni extrasolari di tipo umano, che avrebbero operato sulla Terra da basi stanziali qui, in Italia, tra l'altro, avrebbero stabilito una sorta di rapporto, di supporto logistico, se così possiamo dire, con un gruppo di persone, di uomini, i quali ovviamente sono stati sicuramente largamente gratificati per questa cosa, no? Come potete chiaramente pensare. Sennò che, detto proprio in breve, dopo un certo periodo di attività, questo gruppo, che sarebbe stato questo consorzio fra i terrestri che risostenevano e questi amici dello spazio, dove il nome Amicizia, che poi è un nome convenzionale, è stato dato, ecco, questi esseri, in sostanza, avrebbero riscontrato nel loro tipo di colori umani un rapporto abbastanza diudente. E allora, di conseguenza, il discorso si sarebbe esaurito, nel senso che il gruppo sarebbe stato di fatto sciolto, loro avrebbero detto che se ne andavano via, e molto probabilmente non è così, ma comunque sia, il gruppo è stato smembrato, anche perché aveva avuto al suo interno, in sostanza, dei soggetti devianti che creavano problemi. Questo è il fatto. Però di questa cosa non è assolutamente niente, nessuno, più o meno fino a 5-6 anni fa, quando alcuni dei protagonisti non hanno ritenuto opportuno di parlarne. Naturalmente, però, oggi è una cosa così lontana nel tempo che, salvo poter dire che questa cosa, effettivamente, potrebbe essere davvero successa, non credo si possa sapere molto. Non ci sono apparenti sviluppi. Io posso dire che alcuni che hanno vissuto questa esperienza, uno è vivissimo, è vegetissimo rispetto alla grande età, che è la spaglurava, di mantenere la salute che ha, la moglie, ma a parte lui c'è per esempio un professore che sta in Veneto, che è una persona che ne sa tantissimo, ma però purtroppo è un'ostrica, ha una posizione accadente di un certo tipo, in cui non intende giocarsela minimamente, quindi è nudo come un pesce. C'è un ex giornalista, anche abbastanza noto, che sta a Roma, oggi è di protezione, che è stato a Roma, oggi è la società di difesa e di protezione di armato, che anche lui dice abbastanza, però, diciamo, sono persone che, devo dire, non hanno la volontà di tirare fuori questa storia. C'è un altro a Milano, perché poi, tra l'altro, questo gruppo si è, in qualche maniera, esteso a un sacco di gente. La cosa antipatica è che, però, questo è il brutto. Alla lunga c'è stato qualcuno all'interno di questo gruppo che, come suddizio, ha marcato mappure. Cioè ha cercato di utilizzare questa situazione per fini completamente diversi. Anche perché, se dobbiamo dare credito, fin in fondo, a tutta questa storia, questi esseri sarebbero stati altamente, come dire, etici. Va, abbiamo questo termine. Per cui è ovvio che i comportamenti, insomma, poco simpatici o peggio non li potevano condividere. Quindi questa è un po' la storia di Rocinza, che è poi dannatamente simile a un'altra storia, che questa non è tutto definita, che è quella che riguarda il caso Umo, che è un caso simile verificato su Spagna, dove un gruppo di presunti extraterrestri originari tra un altro sistema solare, avrebbe creato una vera e propria piccola colonia qui sulla terra e opererebbe da diversi paesi. Ora il problema è quello che io dicevo prima. Se fosse vero davvero che all'apparenza tutti esseri non sono troppo simili da notte, il nostro problema è che non li distinguono. E se non li distinguono, evidentemente possono tranquillamente operare dai filtrati. Quale? Non so se ho visto. Grazie. Il confronto è il famoso RH negativo. È una domanda. Aspetta un attimo. Signore, vai. Non voglio sapere una sua, sulla famosa ARC5V. Allora, se vogliamo fare una battuta, facciamo una battuta, diciamo che io sono una delle pochissime persone che può dire di essere stato da ARC5V. Ed è una battuta. Perché? Perché ARC5V ovviamente esiste. Nel 1997 siamo andati con un attuto della televisione svizzera a fare un programma che includeva anche il discorso che riguardava ARC5V, quindi siamo andati ai gol di ARC5V, abbiamo ripreso tutte le installazioni esterne, abbiamo preso i cappelli, sapete che ARC5V è tutto regolare, siamo stati sorvolati da uno degli elicotteri, abbiamo visto i blazer con il mitra, tutte queste bellissime cose. Poi a un certo punto, vabbè, è stato bene, 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 anche perché c'era un fondo e un cameraman che diceva, beh, non capisco, ma io sono famiglia. Allora, a parte le battute. Poi cosa è successo? È successo che l'anno dopo, Clinton ha pubblicamente ammesso che esisteva l'ARC5V, una cosa importante perché fino a quel momento il governo americano l'aveva proprio tu pur negato, e durante dopo, meglio ancora, l'hanno estesa, l'hanno estesa perché in effetti, io me lo ricordo, da dove siamo arrivati noi, ai cartelli, i cartelli dicono, no, puoi essere imprigionato fino a 5 anni di detenzione, 5 mila euro è ridemuta, e poi ti mettono il usual deadly force all'auto, cioè ti possiamo sparare e uccidere. E quindi, vabbè, a questo punto però da dove eravamo noi? Qualcosina si vedeva, vabbè, poi dove ti tirare fuori i pinopoli, i cavoli vari, però insomma, allora, spostando tutto, allargando l'area, non si vede più in tubo. Quindi paradossalmente dove noi siamo stati il suo tempo è diventata la Re 51, quindi in questo senso sono stato l'area 51. No, comunque, per chiudere il discorso, allora, l'area 51 sicuramente è stata teatro della realizzazione di mezzi sofisticati, o come si dice, esottici, no? E fra questi ci hanno fatto due, ci hanno fatto lo Stelt, tutti i dei della generazione Stelt, ci hanno fatto l'Aurora, che l'hanno visto i pochissimi però, cioè, no? E quindi, voglio dire, non è un sogno, è fatto un sogno, sì, a più livelli, sappiamo benissimo, senza entrare troppo nei dettagli, diciamo che è un'installazione dove ci hanno fatto cose che probabilmente noi poi abbiamo visto o vedremo con vent'anni di distanza, no? Perché chiaramente poi i militari fanno una cosa e poi i civili le usufruiscono 20 o 25 anni. E quindi questo, su questo non ci piole. Oggi però, con tutto il casino che è successo, con la gente, i guisosi che vanno lì, è quasi certo che se ci fanno qualche cosa ancora nell'area 51, ci hanno fatto qualcosa di un certo punto, non ce lo fanno più, perché c'è troppa gente che sta lì, c'è gente appostata, proprio gli fanno le trappole. Allora, è chiaro che, sembra che sia vero, che la nuova area 51 è una località dell'Unita dove la CIA ha trasferito tutto. Comunque, questo è molto interessante, non so se qualcuno si ricorda, tanti anni fa, parlo degli anni 60, chi fu un agente della CIA di origine italiana, un certo Victor Marchetti, che scrisse un bellissimo libro, che tra l'altro andò a Ruba, letteralmente a Ruba, che c'era anche l'edizione monogna, andò a Ruba, è rititolato CIA, culto e mistica del servizio segreto. Lui è arrivato in pressione e ha scritto il suo libro. Bellissimo. Andò a Ruba per un fatto, perché lui l'aveva scritto e lo scritto pure la CIA. La CIA ha detto, allora, bellissimo, però attenzione, questa pagina non va bene, questo non lo dici, questo lo cancelliamo, e così via. E lui che ha fatto? Si è attenuto, però ha pubblicato il libro, bellissimo, che ha scritto censura, censura, depennato, censura, carissima, per cui ha dato letteralmente a Ruba. Ecco, una cosa interessante è che nel libro lui dice questo, che è sacrosanta vita, lui dice, scusate, la CIA è una struttura molto particolare, comunque c'ha un suo budget, come ovvio che sia, no? Fatevi due conti della serva. Se voi considerate il budget che ha la CIA e quello che la CIA fa oggi nel mondo, ma guardate che per fare quello che la CIA fa, ci vorrebbe due volte e mezzo il budget che fa, quindi è fuori discussione, la CIA non può non avere dei fondi neri. Ma non solo, la CIA c'ha anche, oltre quello che appare, quello che non appare, perché ci sono anche delle facilities, come dicono in termini, no? Cioè installazioni, dove si fanno cose che non se ne rende conto a nessuno. Per esempio, una di queste, virgola, è in uno strato nell'Evada, punto. Cosa c'è nello stato nell'Evada? Poi c'è molti che si chiedono come mai l'area 51, perché probabilmente gli Stati Uniti sono 50, in pratica è come se fosse un 51esimo Stato al di fuori tutto, no? Ci sta. La domanda che mi era stata fatta su RH negativo. Ma è un discorso, come dire, molto particolare, perché si ritorna al discorso di prima. Se fosse vero, allora, ipotizziamo che sia davvero da prendere al 100% l'idea che ci sono stati dei casi di teogamia, va bene? Usiamo questo termine. Gli dèi, gli angeli, chiamateli come volete, che si uniscono praticamente a degli esseri umani. È chiaro che gli danno, in qualche maniera, un qualche tipo di patrimonio geretico. Vi faccio scusare, avete pazienza. se voi vi prendete, forse ve la potessi dire, non c'era neanche, però penso che ve l'avete detto anche Mauro Viglino stamattina. Cioè, nell'antico del San Vito voi vedete che i patriarchi mediamente capivano il caprao in mila anni. Ed era tutta gente che, in qualche modo, aveva avuto una sorta di, come volete chiamarla, contaminazione, meticciamento, chiamatelo come volete, con questi signori, va bene? Poi, gradatamente, ma guarda un po', la vita si abbassa. In genere, 50 anni per volta, no? E tutti i vari patriarchi, alla fine, poi, si arriva a 120 anni. Anche perché c'è l'indicazione che dice, il signore disse, non è saggio che l'uomo abbia, quindi la sua età sarà a 120 anni. Ma probabilmente questo si spiega, non perché Dio fa una sentenza, ma semplicemente perché il patrimonio genetico, scusate il termine, si annappua nel corso del tempo. E allora è ovvio che succede questo, eh? Quindi, voglio guardare poi il patrimonio nel sangue, bah, bisognerebbe intanto andare a fare le rarisi sanguigni a tutti, perché lo so anch'io che se dovesse essere vero tutto questo, probabilmente le popolazioni più esposte a queste, a questa, chiamiamola, teogamia, potrebbe essere effettivamente la popolazione che poi, insomma, ha fissato gli ebrei al centro di tutto questo discorso. Poi ci potrebbe essere qualcuno che dice, vedi però, gli ebrei, guarda un po' quante persone geniali hanno prodotto, quindi hanno qualche rotellina in più, non lo so se sia vero, però una cosa è certa, bisognerebbe fare degli studi di genetica, come Dio comanda, perché se no, corriamo poi il rischio di fare illazioni che sono interessantissime, però poi dovete riscontrare, perché giustamente quando si parlava non solo di epistemologia, ma anche di cose concrete, poi devi provare, non basta solo questo. Però ecco, diciamo che se si tratta di cercare di razionalizzare certe cose alla luce di cose che sembrano più logiche, più fattibili, è preferibile fare così, perché se no andiamo soltanto in condizioni leggendaria, mitica o religiosa da cui non capiamo le gambe, perché chiaramente a quel punto non ha senso. Qualc'altra domanda? Prego, signor. Qualcuno dice che non si è mai arrivato sulla luna, perché qualcuno glielo ha impedito. Volevo sapere cosa ne pensano. Ma io penso che sulla luna in realtà ci siamo andati, però non ci sono andati come ce l'hanno raccontato. Allora, guardate, io mi sono occupato per dieci anni di problemi allo spaziale, ho fatto parte di una ditta del comparto spaziale fiorentino, sono andato a congresso astronautico di Pugliani, ho conosciuto astronauti, mi posso dire questo, proprio fuori dai letti. Allora, se ti azzardi a toccare il tabù della luna ti mangiano la faccia, però non bisogna essere, diciamo, dei geni, basta analizzare cose per vedere che la NASA ha prodotto un sacco di materiale falso. Falso, proprio falso, falsificato, no? Tanto è vero che ci sono persino scatti giornalisti che hanno detto, ah sì, è vero, sì, nelle foto della Polo 11 ci sono delle cose che non tornano, ma sai, magari ci hanno messo dentro delle foto girate quando facevano le simulazioni a terra, ma cosa vuoi che sia? No, comunque cosa vuoi che sia, ma stiamo scherzando, non esiste. Allora, è molto probabile che quando c'è stato sbarco su la luna le cose non si erano andate proprio come ce le hanno dette e che probabilmente ci fosse anche il caso di coprire qualcosa. Sapete tutti che ci sono state le storie, no? Intanto la comunicazione con Houston era differita, quindi c'era tutto il tempo di manipolare, ci sono delle registrazioni che dicono cambia frequenza, cambia frequenza, lo sapete, no? Stiamo dicendo niente di nuovo. Poi un'altra cosa, guardate che ci sono state diverse situazioni in cui gli astronauti, cioè se tu parli con gli astronauti, gli astronauti in carri a carità ti si raccontano quello che vuoi, pubblicamente no, perché sono venuto a silenzio. Poi ricordate che sono quasi pubblici, anche questo lo dicevo. Allora, è chiaro che questo non è che debba dire di più, però, capite bene, prima si parlava del, scusi, sono interrotti, del, me l'ha chiesto. Del RAC, in effettivo il signore? No, 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 lei, lei. Ah, riguarda la luna, alcuni dicono che non sono luna. Sì, no, esatto. Ora, io penso che sulla luna ci siamo arrivati, ma, ripeto, in maniera un po' differente. Guardate che poi ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio, perché per esempio, un'altra cosa da dire è che il primo uomo nello spazio non è stato affatto gagare, ma manco per me. Il primo uomo nello spazio, anzi, quello che è stato indicato come il primo uomo nello spazio è stato anticipato da almeno tre cadaveri, tra cui una donna, che sono morti in orbita in tentativi di volo anteriori a gagare, e ci sono anche i modi con un uomo nello spazio. Chiaramente è guai a parlare, non si è rimangendo la faccia. Perché? Per una ragione molto semplice. All'epoca, con la corsa alla luna, con la corsa allo spazio, anzi, c'era l'assurda esigenza di battere l'avversario e quindi i due studenti avevano bisogno di un eroe vittorioso, non terminati all'omore. Guardate che in Italia esistono le registrazioni sonori in lingua russa di questi poveri disgraziati che stanno morendo ai poveri. E le hanno registrate a suo tempo i fratelli di Unica Corviglia, che poi sono anche finiti a mamma. Tenete presente che quando questo è avvenuto, il governo italiano, che tecnicamente faceva ripropogli, mentre i fratelli di Unica Corviglia erano stati in grado di montare una stazione d'ascolto degna di Bocum, in Germania, mentre gli italiani, il CNR, queste cose qua, erano dei trogloditi all'epoca, proprio zero, loro invece no. Ecco, quando è successo questo, i funzionari dell'ufficio politico, della questura di Torino, dove loro hanno montato tutta la struttura interna, il pettitore, il pettitore, il pettitore e i segnali, sono andati da loro e hanno detto, bravo, è interessante, bravo, bravo, sì, sì, però questa roba la prendete in cassetto, perché la Repubblica Italiana non si può permettere il lusso di avere i governi con l'Unione Sovietica. Noi abbiamo il partito comunista più importante di tutta la roba occidentale in casa, per cui non importa sia, a livello governativo vi si dice di stare calmi e buoni. Punto. E questo era con i governi democristiani, eh, mica con i governi comunisti, eh, o di centrosinistra, insomma, con i governi democristiani. Quindi, signori, ci prendiamo in giro, una cosa buffa, se vi capitasse un giorno di andare vicino a Baikonburg, dove c'è il lancio dei satelliti russi che ancora funziona, no? Se non ci fosse Baikonburg non lo sapremmo più nello spazio. Una troupe francese, questo l'hanno fatto 3 o 4 anni fa, sono andati praticamente a Baikonburg, a un certo punto, tiravano anche così il paese, le case, no? Per fare così le imprese normali, sono andati nel cilitero. I ciliteri sono rimasti colpiti dal fatto che c'era tutta gente morta allo stesso giorno. Ma poi non c'è proprio, tutti militari, tutti morti allo stesso giorno, no? Ma, mica uno, 300, 350, una cosa fuori, morti in un incidente aviatorio. Ora, 350 persone morti in un incidente aviatorio, in questo senso, due o tre aeree che si schiaffano, è una cosa impossibile, no? Ecco, quindi, questa roba. Alla fine poi si è saputo. Allora, i Ussi avevano copiato, nell'ultima fase del corso alla luna, il Saturno 5. E avevano fatto quello che chiamavano il mostro, era una specie di opione del Saturno 5. Questo affare è decollato con il Ministro della Tecnologia, altre personalità che credono, e gli è ricaduto sulla base di lato. Cioè, ha fatto una strage, sono morte 400 persone. Chiaramente la gente comune l'ha matta lì. Il Ministro e il Generale sono stati sepolti nella luna del Crebino, perché sono caduto l'aereo. Vabbè, però capite che, ovviamente, poi il potere, se la riguarda uno vuole, le cose note. Quindi, anche la luna, no? Io credo che sulla luna ci si sia andati, quindi non è, non ci siamo andati, questo non credo. Però è anche vero che sicuramente ci sono state, ci sono cose sulla luna, per cui le cose ci sono state dette, non come sono andate, e diciamo, fino a un certo punto siamo stati sicuramente internati, eh? Prego. Prego. Qualche notizie di una nuova rivista? Assolutamente una sciocchezza. Allora, noi ci siamo occupati di quella storia, della storia precarietà. Tu fasullo totalmente. Vedete che il problema è anche questo. Noi che ci occupiamo da 50 anni di questo problema, qualche volta abbiamo anche l'ingrato compito, quando si diffondono questi e quelli, non ti iniziano a dire, guardate che è tutto. No, è una puttana. Bisogna dirlo, assolutamente, perché se no, ci si dà la zappa sui piedi. Alimentare cose che non sono, non ce li peggono. Anzi, bisogna avere il coraggio di dire proprio le cose iniziali, anche perché voi capite da soli che questo è un tema talmente importante, talmente evocativo, talmente delicato, che hai difficoltà a distinguere il buono dal non buono, no? E poi purtroppo c'è da dire che siamo in una dimensione in cui chiunque può tendere a dire la sua, sanno poi verificare. Quindi devi verificare. E quando vuoi verifichi che la scavola, se non puoi verificare. Certo. Una domanda. È l'Antico Testamento. Un po' più forte. È l'Antico Testamento. Sì. Abbiamo visto degli erogini che controllavano tutte le diverse popolazioni. È la stessa cosa che accade adesso? Cioè siamo controllati. È la stessa cosa? Adesso. Allora, forse ve l'avrò detto anche di lino, ma sostanzialmente il concetto potrebbe essere questo, gli angeli delle nazioni, no? Allora, l'Antico Testamento dice che esistevano degli angeli delle nazioni che si prelevano cura dei vari popoli. Quindi, un bieglino può dire giustamente che gli avrebbero potrebbero essere l'angelo delle nazioni di Israele, ma ce ne potevano essere altri che curavano, che sono gli assili, gli egizi, e quant'altro. Ora, diciamo che l'idea che qualcuno in passato con popoli arretrati, no? abbia potuto anche divertirsi a giocare il ruolo di giro, eh, insomma, ci sta pure. Guardate, c'è chi lo ha fatto. Oggi, oggi, ci sono dei popoli dell'Oceania che hanno tuttora dei culti, culti, creati, creati, per il contatto con alcuni soldati americani di cui hanno oggetti felici che vengono adorati. Sì, poi gli aerei, che fanno i capi di aviazione con gli aerei fatti di paglia, no? Perché pensano che ritornano. Dottor Pinotti, il culto del carico. Il culto del carico, esatto, esatto. Quindi, sono tutte cose che dobbiamo guardare con attenzione. No, sì, io non ho capito, però oggi, oggi fino a un certo punto, anche se ho capito cosa devo dire, c'è l'idea o la leggenda, non lo so, che, diciamo, eventuali contatti avuti fra il governo segreti, chiaramente, e questi signori, non solo ci siamo stati, ma in qualche modo continuino, no? E allora, a questo punto vi dico una cosa, invece di leggende, parliamo per esempio di qualche cosa di concreto, volete? Allora, questo è anche su internet, non perché su internet, voglio dire, però dico per dire. Allora, la storia è questa, io vi ho parlato del project Google Book, il progetto libro azzurro della nazionale americana, 10.000 segnalazioni inchiestate nel territorio intercontrano di Stabilitari, 701 casi rimasti spiegabili, perfetto, questi sono i casi, d'accordo. Oggi abbiamo a disposizione un milione di casi e 200.000 sono incontestabilmente ufologici e in spiegabili. Allora, il Blue Book era diretto da diversi direttori, no? Erano tutti militari. Il colonnello Robert Friend, che era uno di questi, narra, riporta, in un'intervista che si è fatta, parecchio dopo fa, una cosa, si posso dire, allora, che, sapeva tutto, un componente della CIA, un contramirario della Marina degli Stati Uniti, un giorno va da uno dei suoi capi, alla CIA di Washington, e mi dice, senti, ti devo parlare, c'è una persona che io conosco, una mica, la conosco fin da quando eravamo a scuola insieme. Allora, questa donna è sposata con un tizio che è ricco, è una persona stimata e potente per Washington, lei fa parte della migliore società di Washington, sono tutti stimati conosciuti, è una persona serissima, beh, questa donna, che non avrebbe assolutamente bisogno di tutti questi problemi, dice da un paio d'anni di essere in contatto telepatico con i piloti del UFO. Oh, 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 sì, sì, ricordo anch'io, però, abbi pazienza, visto che la conosco e che costa poco, perché non ci mandi un paio di commedie a interrogarla, magari, perché voi ricordate, ah, vabbè, d'accordo. E allora, due ufficiali di Marina della Cina vengono mandati dalla signora Frances Swann, signoravano, bene, questa li diceva e gli spiega, sì, in effetti, in me, io da un certo tempo a questa parte, io mi sento nella mente, tutta una serie di pensieri non miei, e dialogo con un'entità che si qualifica con il nome di Affa e dice di essere un pilota extraterrestre in ordine, ma, interessante, perché cosa le dice? Ma, questo, quello, dell'altro, eccetera, a un certo punto, dice, ma, non si può vedere di contattare, perché c'è tutto sommato, no? Vabbè, perché possiamo provarci, il suo morale viene stabilito il contatto, oppure qua. In questo punto questi signori interagiscono con questo presunto pilota alieno e c'è un luco di atomo. E, apri di cielo, questo qua comincia a sparare a zero. Gli dice praticamente che il governo americano è esattamente sullo stesso livello del governo sovietico, che sono una manica di pazzi, che scherzano con l'atomo, che con il rischio di trasformare il mondo in un deserto nucleare, che gestiscono il mondo in maniera folle con una guerra, la polenza, morali, gli fai il pelo e il contropelo. Insomma, dopo una mezzoletta di Università di Tiviteria, questi qua, lo fanno un altro, senti, no, capito, è il nostro governo, perché dice, adesso studio un attimo, dice, ma, vediamo un attimo a noi, no? Dice, ma, tu adesso dove li trovi? Ah no, aspetti, no, prima di fare una serie di domande di tipo astronomico, lui risponde e poi verificheranno che è tutto esatto. Questo è molto strano, perché non c'è la possibilità di inquadrare matematicamente nulla, mi fanno proprio una serie di domande in un altro pochino. Poi dopo questo mi dico, senti, ma tu dove sei? E lui dice, ma io sono nella vostra atmosfera e i domandi della mia madre. Ah, interessante, va bene. E dice, senti, ma, le vostre navi, dice, ma un giorno, dice, per noi sarebbe possibile vederne una? E lui risponde, certamente. Questi si guardano. E quanto questo potrebbe succedere? E lui risponde. Anche adesso. Questi si guardano ancora più ribetiti. E cosa dovremmo fare? Andate alla finestra. Questi vanno alla finestra e a una distanza di 200 metri di linea gara, perché era un palazzo alto, vengono un oggetto a forma di disco con cupola, tac, che si staglia contro il cielo. Restano nemmetiti. Poi uno si sveglia, si attacca subito al telefono, chiama la torre di controllo dell'aeroporto nazionale di Washington, scusa, ma qui, ascoltano un attimo, voi vedete? Ci guarda, c'è il grande affoglimento, non capiamo come mai, c'è una serie di interferenze per cui non capiamo. Grazie, buongiorno. Allora, la cosa divertente è che questa storia è il governo canadese, tra l'altro, è agli atti di questa dichiarazione di Roberto di Roberto Alfredo. Il problema più divertente è che poi, quando è venuta fuori Sassori, che si è fatta una domanda con Roberto Alfredo, dicono, senti, ma questa storia si è fermata qui? E lui ha risposto, no, non si è fermata. Ah, e quindi è andata avanti? Certo che è andata avanti. Ah, e come è andata avanti? E lui ha risposto, vede, quando un generale a quattro stelle ti chiede di dimenticare, tu dimentichi tutto. Allora, questo per dire che però, capite voi, no, che questa non è una prova, non può essere qualificata come una prova, perché chiunque potrà venire a dirvi che magari frutto dell'immaginazione o che altro? Signori, abbiate un senso. Fino a una settimana fa era il titolo News Week, il settimanale americano, no? E c'era una copertina dedicata all'Isis e ai nuovi Monuments Men, i nuovi uomini dei monumenti, quelli che salvano beni culturali, in questo caso non esistono. Perfetto. Il curiosito, il composto vero, ah, è bellino, eh, in un certo momento, ah, sono rimasto sconcertato. In questo numero ci sono la bellezza di dieci, mica una, dieci pagine dedicate allo spionaggio psichico della CIA che viene, dopo la guerra, portato regularmente avanti, esattamente come fanno i russi, prima con i russi e poi con la Russia, con soggetti particolarmente sensibili, sensitivi, i quali hanno quella che gli americani chiamano la remote viewing, cioè la visione a distanza, gente che si concentra e vede a distanza le cose, no? Telepatia, chiamate un Google, però questa roba funziona, la usano e non se ne parla ma funziona. E questo è un piccolo problema. Guardate che in piccolo, vi racconto solo due episodi, allora, rapimento moro, rapimento moro, ah, dove è moro, dove è moro, dove è moro, noi non ce l'abbiamo i remote viewers nostri, non ce l'abbiamo, però qualche volta qualcuno si alza e dice, sai cosa, c'è il tizio che dice di avere dei poteri paranormali o qualche quale, vogliamo sentirlo? Ecco, allora, è stato fatto nel caso di Moro, il protagonista, tra l'altro, uno dei protagonisti di queste cose è Prodi, che l'ha anche raccontato. Allora, cosa è successo? Fanno questa cosa e viene fuori che il presidente Moro e viene fuori il nome, Gravoli. Ah, era Gravoli, subito, immediatamente, setacciano il paesino naziale di Gravoli e non viene fuori impegnati. Il signore Moro era in via Gravoli a Roma e non ci ha pensato nessuno, qualche maligno dice, non ci hanno voluto pensare, non lo so, però, questo per dire, vedete che qualcosa viene fuori. Altra cosa, a noi, per esempio, è stato detto dai giornali che quando ci fu il gradimento del generale Docia, mi ricordate il generale della Nato a Verona, perfetto, cosa avvenne? I giornali dissero, eh, c'è stata una soffiata, poi i Nox sono arrivati, hanno fatto irruzione, hanno riparato il generale, come siamo bravi, che è bello, finito, bello, perfetto, momento, momento, soffiata, sì, come? Allora, se voi vi prendete le memorie del maggiore Mac Mulder, che è uno di questi remote viewers, che sono due o tre ormai che fanno, scrivono memorie, perché ormai sono vecchi, no? Lui ti racconta tutto e ti dice, sì, no, ma l'hanno convocato in urgenza, vedi qua, ti hanno mandato una mappa di Verona, vanno a tosse e trovi il generale dove, e io sono stato lì un giorno intero, qua alla fine, e qui, puff, hanno chiamato l'ambasciata, andato a Roma, gli hanno detto, guardate, ci risulta che il generale è in questa strada, in questo posto, perfetto, mi hanno fatto irruzione da un interno. Ma lui era a Padova? Eh? L'hanno trovato a Padova? Sì, sì, esatto. Non avevo, non avevo, sì, 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 che è anche peggio, perché praticamente, esatto, quindi andiamo da una mappa. Quindi capite bene che, voglio dire, queste sono cose che per lo più tengono ad essere spiazzanti, perché cosa fai? Come te le spieghi? Però c'è anche da dire una cosa, non è poi così illogico pensare che altri abbiano dei mezzi di comunicazione in fattina di uno differenti, perché ne abbiamo pazienza, noi ci stiamo in capo nello, anche con sé, no? Ah, che bello, vediamo qui, là, capiamo il segnale, sì, ho capito, ma se questi usano altri sistemi, non capto un accidente, c'è questo un piccolo problema. Noi abbiamo la tendenza a omologare tutto in funzione dei nostri parametri, non necessariamente funzionare così. E poi, date pazienza, c'è anche da fare una cosa, da fare una considerazione. Questo non c'entra niente all'UFO, non c'entra niente, è una considerazione di tipo culturale, per esempio. C'è un certo James che ha scritto, mi sembra sia della Delphi, un buonissimo libro, intitolato Il Crono della mente di Camerale, è un libro molto famoso. Però interessantissimo, sostanzialmente dice questo, le due parole, l'uomo c'ha due logiche di un altro, no? E dovrebbe lavorare con tutti e due. Invece, da ormai già due o tre anni, lavora con uno, che è quello preposto alla razionalità, alla pragmaticità, a quello che si tocca, e finisce l'altro, che è preposto all'intuizione, ad altre cose, no, finito, morto. Allora, mentre i popoli più arretrati, tipo che ne sapevamo lì che era australiano, no, si alza la mattina, odora l'aria e poi va a trovare la mamma malata perché ha sentito che è malata, e nessuno ne ha detto, no? E va bene così. Lavora con l'altro luogo. Noi no, noi però non manco per niente, se non ci sbattiamo contro le cose, nulla. Quindi capite che anche noi, quando saltano fuori fenomeni paranormali, non c'è niente di paranormale, è tutto normale, con la differenza che probabilmente certe cose, semplicemente, tanti, la maggioranza di noi, non le fa o non le sa fare. Cioè, scusate, tutti noi siamo virtualmente cerchi e sordi. Per esempio ci sono i colori all'ultravioletto e all'infrarosso. Ci sono, le migliori non ci sono, ci sono che noi non li vediamo. Il nostro occhio non li può vedere. Poi ci sono gli ultrasuoni e gli infrasuoni, no? Gli attuali di centro, ci sono anche i fischietti, no? Ma noi non manco per niente. Quindi capite che anche noi siamo parzialmente tagliati fuori da una fetta di realtà. Questo è un grosso problema, perché c'è tutto il resto che viceversa esiste, si va di fresca e quindi non possiamo far finta che non ci sia. Poi vabbè, chi crede solo in quel che vede e tocca, o dico come vuole, ma non funziona così. Qualche altro domanda? Sì. Preto. Volevo sapere, dottore, cosa è il senso del caso della creatura di Montegliari? Altra... Allora, una cosa assolutamente inventata, destituita di ogni fondamento, abbiamo sviscerato il caso, oltre ogni dire, bene, il problema è questo. È di fatto in parte dovuto a una serie di false informazioni e in parte addirittura a veri e propri scherzi che sono stati fatti alle spalle del povero Antonio Pimento che crede anche alle favole. questo è il problema. Poi, che lui si sia divertito a scrivere libri, lasciamo perdere la cortesia, ha fatto i libri, i suoi libri, non è niente come lei, non penso, vorrebbe tutto, no? No, assolutamente, il centro politico nazionale ha sempre detto, scusate, cacca, figlio, burma. Non c'era la signora di sesso. Lei pensa che gli extraterrestri potrebbero intervenire se dovessero usare delle armi per la distruzione dell'umanità? Allora, le do una risposta ambivalente, credo che ci lascerebbero scannare tranquillamente come hanno fatto finora, ma se dovessimo utilizzare armamento nucleare su larga scala, no, non ce l'ho piuttosto. Per una ragione molto semplice. Prima di tutto perché lo hanno fatto vedere. Hanno bloccato varie volte, esatto, bellissimi balistici intercontinentali sulle altre. Eh? Ci sono dei libri dove si vengono le stesse, sono veri? Esatto, sono veri, sì. E tra l'altro io ho parlato personalmente con il capitano Robert Salas, che comandava la base di Maelstrom, che era Washington anche lui, abbiamo parlato a lungo lì, addirittura non soltanto l'oggetto è rimasto lì tranquillamente e ha bloccato tutto, e c'è avuto due giorni che ha rispettato il filoso, ma addirittura è stato scoperchiato il coperchio del silus, e anche loro non capiscono quale forza abbia diverto la parte superiore. lì pensa poco. Ecco però dicevo, dubito però che loro permetterebbero l'uso indiscriminato dell'ordine nucleare. Perché? Perché è chiaro che essendo anche loro qui, che loro ci sono, non credo che avrebbero molto piacere che trasformarsi in un posto dove vengono anche loro in un deserto nucleare, no? Quindi, se si tratta di scannarci fra di noi in maniera tradizionale, per carità, credo che non farebbero nulla per inferirlo. Poi, allora, attenzione, perché poi qui dobbiamo anche fare un discorso. Io non voglio con questo dire che questo è Vangelo nella maniera più assoluta. Io sono una delle persone che è stato fra i più, come dire, a cerni contestatori del contattismo cialtrone, tanto che capire. Però devo anche dirvi serenamente che ci sono casi di contattismo validi che funzionano. Attenzione, nel rapporto uno banalissimo, anni fa, per esempio, c'è stato un gruppo di persone che, vabbè, adesso in pratica, era completamente sbagliato, però ha funzionato ancora fino a qualche tempo fa, era un gruppo di milanesi, i quali a un certo punto si univano attorno alla figura di una persona che diceva di avere messaggi telepatici da un minero, che si chiamava Argon, che poi era un gas nobile, fra le altre cose, ma comunque lasciato perdere, no? Bisogna vedere se lo sanno. Ecco, questo Argon gli ha detto, ah, guardate, voi non vivete secondo le leggi dell'universo, dovreste vivere più vicino alla natura, dovreste lasciare perdere la vostra vita fondata esclusivamente sul profitto, sull'aria, ha fatto tutta una pippa, insomma, alla fine un certo numero di oro hanno detto, vabbè, andiamo a vivere un po' più come dice lui. E si sono trasferiti nel sud della provincia di Siena. Non è una comune, eh? Attenzione, è però un gruppo di case coloniche che loro hanno riattato, hanno mantenuto questo contatto fra di loro, una volta alla settimana si vedono e c'è sempre questa guida che gli dice cose. Vabbè, poi, per carità, il farmacista di Milano ha fatto il farmacista lì, l'assicuratore di Milano ha fatto l'assicuratore lì, si sono un po', vabbè, tutto bene. Alla fine cosa succede? Un giorno mi dicono, ah, guarda, c'è questo gruppo che consentirebbe visite, no? Quindi se vuoi possiamo andare a trovare, perché non ci si va, andiamoci, ci siamo andati, io e una persona che mi ha fatto la tramite, siamo andati e quindi siamo stati autorizzati non solo ad assistere a una di queste, sto parlando anche come chiamarle, sedute, vabbè, e niente buio, niente, assolutamente, c'era questa persona che scriveva, praticamente aveva una forma di medialità scrivente, quindi questo alieno parlava e a un certo punto si è rivolto a noi, ah, vedo che abbiamo dei visitatori, mi fa piacere, se volete ognuno di voi può farti una domanda, a un certo punto devo farti una domanda molto banale, la prima che mi è venuta in mente è detto, senti, se tu sei quello che dici di essere, io sarei interessato a sapere una cosa, e cioè, noi tutti che ci occupiamo di questo problema, degli ufo e degli alieni, saremmo sicuramente interessati a sapere quando e se un giorno un governo avrà effettivamente il coraggio di dire le cose come stanno, di fare dichiarazioni pubbliche a favore dell'esistenza, che le dici? E lui ci ha gelato, letteralmente, era il 1900, aspetta, era negli anni Ottanta, l'anno prima di Cervi, lo ricordo che non lo posso dire, ha detto guarda, vuoi una risposta, te la dò subito, dalla Russia sovietica verrà una risposta forte, definitiva, importantissima, dalle autorità di Stato e di governo, però prima che questo accada, dice, quel paese avrà dei seri problemi e ci sarà una grossa catastrofe che causerà molti morti, eccetera, eccetera, noi abbiamo sentito questa roba e ci siamo detti, ma che cavolo dice questo? Ma figurati la Russia sovietica, ma neanche la a pezzare, era appuntanata, ci siamo detti fra di noi, no? Poi, uno, è successo Cervi, e poi è successo nell'89 la grande ondata sovietica, quando per la prima volta il Cremlino e la TAS, l'agenzia di Stato sovietica, hanno iniziato a mettere tutti gli avvistamenti che c'erano con la sovietica, con addirittura i comunisti trinarisciuti nostri, no? Idioti, che avevano scritto sull'unità che in nome del marxismo e del limismo, chi si occupava di queste cose non poteva essere comunista, che avevano dovuto fare macchina indietro subito dicendo contro l'ordine, no, ma se non c'erano questo, allora vuol dire che può essere, eccetera, eccetera, facciamo bene. Quindi, capite bene, come faccio a dire che una cosa del genere non si è verificata? Ora qualcuno gli vorrà dire, vabbè, ma gli UFO c'entrano, non è che è un fenomenico medianico, precognitivo, tutto quello che volete, però allora che fare con gli UFO, naturalmente. Oppure controllato anche da loro? Tutto quello che vuole, sì, ma è chiaro, potrebbe essere proprio così. E poi comunque dico anche un'altra cosa, questi fenomeni qui, ora non voglio, vediamo un po' se lo trovo, no, perché a qualcuno potrebbe interessare, ammesso che ti interessi, anche dice ma cosa pensano gli alieni di certe cose, no? Soprattutto viene da farsi una domanda, ma chi ci troviamo di fronte? Cioè persone che vengono dallo stesso posto? Sicuramente no. È gente diversa, che viene da più, diciamo, località, chiamiamola così, ma che però probabilmente hanno, penso, un certo tipo di comportamento comune, che intanto è quello di non interferire direttamente nella nostra vita, almeno oggi. Se questo è stato fatto a suo tempo, probabilmente è stata una sorta di violazione di un certo codice, che invece deve essere rimasto abbastanza inalterato, perché tuttora noi non abbiamo interferenze dirette, anzi, no? Allora vale la pena di chiedersi, questa gente come la pensa? La cosa paradossale è che se io considero che negli anni 50 c'era un certo scenario, e oggi questo scenario è in qualche modo voluto, ecco, quello che c'è da dire è che questo scenario però è rimasto sostanzialmente lo stesso, e questo è abbastanza significativo. I casi di contattismo propriamente letti, per esempio, hanno dato in qualche maniera delle indicazioni abbastanza curiose, cioè se noi dobbiamo, per esempio, considerare presunti messaggi che abbiamo di così, che sarebbero stati dati da questi esseri negli anni 50, diciamo che dà un po' da pensare questo, perché ci sono, come dire, delle indicazioni che per certi aspetti possono anche confermare certe cose che diceva anche Pignino, e per altre diciamo cose che dicevo anche io adesso, vediamo se ve lo trovo, perché se ve lo trovo ve lo leggo pari pari, invece di... comunque sostanzialmente si trattava di... messaggi forniti a un gruppo di contatto americano, che diciamo poi ha avuto da questi interlocutori alieni l'indicazione di cercare un apparato di cittadini per avere dei contatti di arario, che poi dopo ci sono stati, e tutto questo è stato riunito in un libro che uscì addirittura in Italia anche negli anni 4, che era intitolato a chi gli si parlano, capite, a chi gli si era un ministro un attimo, e quello che emerge è una visione per esempio della realtà, anche a livello, come dire, non voglio dire religioso, ma etico, abbastanza alto, ma vi si dice anche di queste comunicazioni, che non ci sono soltanto ovviamente rosse e fiori, nel senso che lassù ci potrebbe anche essere gente non proprio in istituzione, ma potrebbe essere chiaro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. noi controlliamo da tanto tempo, però siete in qualche modo controllati da una visione della realtà assolutamente fuori vista, cioè ben lontano dalla nostra, c'è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la violenza, la guerra, tutte cose che noi avvolgiamo da sempre, quindi è chiaro che non è che possiamo più di tanto contrastarli fino a chiaramente questi sistemi. Oh! Sì, 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 ecco. Vabbè, allora, vi leggo qualcosa, prendetelo che il commesso è, sono comunicati questi qui, e io qui ho riunito più che altro a livello di curiosità, no? Allora, qui adoro di Atom, vi stiamo dando idee su da farsi, vi sono sul vostro pianeta, persone che si mettono in contatto con noi in questo modo, cioè a livello psichico, ma voi non avete ancora imparato a separare i vostri e propri pensieri dai nostri. Poi viene un altro, io sono il custodio degli archivi universali, le vostre registrazioni, quelli di molti altri sono qui nel tempo degli archivi, va bene, alcuni di noi provengono da sistemi sovari e lontani. Poi dice, molta della nostra gente è ora sul vostro mondo, e molta gente del vostro mondo è stata portata nello spazio nel corso degli anni, voi se siete tutti per uno scopo preciso, avete un destino, non combattete la verità universale, fanno parte della nostra organizzazione, che è una specie di confederazione interplanetaria, no? Una grande quantità di canetti, perché la vostra gente è così inistredente? Voi avete cominciato le vostre ricerche, è venuto il momento per voi, guardate in alto, nei cieli sopra di voi, non perdete contatto un con l'altro. Voi siete una civiltà morta, forze buone e cattive sono loro al lavoro, il vostro mondo è osservato da circa 75 mila anni, come potremmo mai rinnegare le verità eterne, la vita, Dio, il posto del creatore nello schema divino? Come potremmo mai avaggiarci e stare a guardare il progresso di uomini malvagi su questo globo della Terra? Se desiderate risposte, vi potrebbero aumentare il caso di un gran inizio dei tempi, ascoltateci, voi desiderate queste risposte. Poi dice, ecco, questo è abbastanza allarmante, dice, uomini cattivi di altri pianeti che abbondano, cercheranno di mettersi in contatto con uomini cattivi della Terra per una distruzione. Uomini buoni della Terra devono unirsi con gli uomini buoni dell'universo. Quindi vedete che se è così, i principi del bene e del male ci sarebbero anche da l'universo. La nostra gente ha già camminato sulle vostre strade, non ci avete visto? Ci sono molte cose contro cui dovrete lottare. Le forze cattive vi diranno che potete morire per le ricerche che state facendo, vi diranno che potete essere distrutti così che i buoni non possano portare a complimento i loro piani. L'umanità deve svegliarsi o ci sarà la fine della vostra civiltà. Tutti i riti, cioè le religioni, sono universali e saranno i riti a salvare alla vostra gente. Pace tutta e tutta, ovunque. Le vostre bombe atomiche potrebbero fare di voi una scintura di asteroidi. Ciò accadde molti anni fa al pianeta della tinta orbita, tra Marte e Giove. Sapevamo cosa essi stavano facendo quando ci siamo intromessi. Dopo la loro distruzione fu un disastro terribile su Marte. Noi non abbiamo voluto interferire con gli uomini della Terra prima. Tutti i uomini erano infatti fare il loro progresso dunque essi siano. Ma non possiamo ora starcene del tutto fermi a vedere un'altra devastazione. Poi dice, questo è interessante, dobbiamo parlarvi di Orione. Laggiù molti desiderano conquistare l'universo. Noi siamo qui per avvertirvi anche di questo. Però troviamo poche persone ricettive sulla Terra. I sistemi solari di Orione sono molto simili alla Terra. I principi del bene e del male sono universali. Vi sono diversi tipi di apparecchi spaziali. Poi gli eletta, va bene, eccetera, eccetera, vabbè, poi spostatevi, vabbè. Poi c'è un punto dove dice, voi dichiarate di adorare l'essere supremo e avete molte chiese, ma in realtà non lo fate. Un grande essere è venuto da voi e vi ha detto porti la travancia, ma voi vi può portare in maniera esattamente opposta. Quindi voglio dire, ci sono dei riferimenti a cose che anche noi possiamo tranquillamente identificare. Non lo so se queste comunicazioni sono da prendere al cento per cento per, però è mia personale opinione, questa è una mia opinione, che può darsi benissimo che effettivamente ci sia una prevalenza di forze che non consentono, che in qualche maniera ci tutelano, però ci tutelano da cosa? Da interazioni esterne indesiderate, perché qui bastiamo da soli a creare problemi. E quindi c'è anche il fatto che questa mancata forma di intervento che loro sicuramente hanno, perché questi qua hanno un po' il pelo, fa sì che siamo noi che ci dobbiamo risolvere i problemi. Come loro spesso avrebbero detto per la serie, non è pedagogico che noi vi si venga a togliere le castagne dal fuoco. Dovete voi farlo e combattere voi per il vostro futuro, perché sennò non ricepereste nulla. Sarebbe solo l'imposizione da parte di un agente esterno di qualche cosa che probabilmente non capirebbe essere neanche. E non è qui tutto sbagliato, se ci pensate attività di questo, quindi potrebbe anche darsi. Ora, giustamente, tutte queste cose qui, a ben valutarle, ripeto, ci potrebbero far pensare che, in fine conti, noi siamo tutelati da inclusioni esterne, però qui abbiamo tutta una serie di problemi da risolvere. Adesso, per fare una digressione banalissima, non sto dicendo niente che probabilmente la maggioranza di voi non capiscono, non conoscono. Cioè, voi vi rendete conto che oggi, a seguito di una persistente crisi economica che sta dilaniando il mondo da anni, ci sono forze, che poi sono le forze che veramente gestiscono il mondo, che sono le forze economiche, finanziarie, al di là di governi, presidenti, parlamenti, eccetera. Queste forze oggi, vedendo che il modello capitalista è in crisi, esattamente come è già collassato il governo comunista, e non ci sono alternative, questi qua stanno entrando nel loro idee che solo una bella guerra generalizzata, verso cui palesemente ci stanno spingendo, potrebbe, anche con un bel po' di vittime, risettare tutto, perché le guerre servono a distruggere prima e a ricostruire dopo, rilanciano l'economia. Cioè, ma voi vi rendete conto che c'è gente che ragiona così? Come fai a andare avanti in questo modo? Ecco, ricordissimo. E allora tu cosa fai? Ti aspetti che questi qua intervengano? Bah! Insomma, non lo so. Cioè, c'era cosa, Einstein, che diceva, io non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma so per certo come sarà combattuta la planta, con le pietre e i pastori. E purtroppo credo che non vada molto di fuori. Qualc'altra domanda? grazie a tutti. È stato un amore per poter fare un momento di notte qui, un amore di nostra mattina e ovviamente siamo contentissimi tutti quanti e siamo fieri di aver organizzato un momento così importante. Vi ringraziamo per la presenza e per l'attenzione. Sì, 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 sì. Grazie, grazie a tutti.